Buonasera a tutti, benvenuti a Non è l'Arena. Vicino a me Salvatore Baiardo, l'uomo che ha tutelato la latitanza dei fratelli Graviano, il super boss della mafia per molto tempo, ha pagato per questo, è stato in carcere, ma oggi il suo nome ha fatto il giro del mondo perché è legato alla profezia, alle previsioni, oppure anche ai potetici messaggi che ha lanciato sulla cattura di Matteo Messina Denaro, ha giocato per conto di chi? Lui è un giocatore di poker. Stasera ha detto voglio tornare perché voglio confrontarmi con l'ex PM Antonio Ingroia che ha fatto importanti processi. Tra qualche istante ci fermiamo pochi secondi di pubblicità e poi confronto tra due personaggi e ascolteremo delle nuove verità. Buonasera a tutti, benvenuti a Non è l'Arena. Allora, come avete visto, Salvatore Baiardo, l'uomo che ha dato la notizia in anticipo di quello che sarebbe stato poi l'arresto di Matteo Messina Denaro, ha scelto di tornare e vuole confrontarsi con Antonio Ingroia, uno dei magistrati più importanti del periodo delle stragi. Un uomo che ha lavorato fianco a fianco con Paolo Borsellino, insieme al dottor Nino Di Matteo, ha fatto il processo trattativa tra lo Stato e la mafia. Lo vedremo tra poco. Prima però voglio farvi ascoltare un audio, è molto importante, un audio esclusivo ed è l'audio di Matteo Messina Denaro. Parla di come si deve reagire alla malattia. Avriremo altri momenti questa sera. Ci sarà un super testimone che ha condiviso molto tempo della sua vita con lui, non sapendo che era Matteo Messina Denaro. E racconterà tutto. Ascoltate quest'audio. Ma boh, ti lascio divertire con i tuoi amici. Ti abbraccio. Io per ora sono un leone, vede. Però lunedì c'ho la terapia e andiamo sempre là, che ci possiamo fare. Però per ora sto benissimo, molto molto bene. Amica mia ti abbraccio. Ti voglio bene, ti penso. Anche oggi ti pensavo, anche pomeriggio ti pensavo. Anche se non ci siamo sentiti. Ma sappi che ti voglio bene. Ciao ciao, un bacione. E divertiti. Questa sera noi ne ascolteremo altri di messaggi. Ascolteremo e vedremo anche delle parole che lui ha scritto. Però voglio dirlo subito. Non ci dobbiamo fare intenerire da un certo tipo di messaggi. Anche di un uomo in difficoltà. È l'abisso del male. Matteo Messina Denaro è l'abisso del male. L'uomo che ha voluto le stragi. L'uomo che ha fatto sciogliere in l'acido un bambino di 12 anni. L'uomo che è dietro a decine e decine di omicidi. Era il braccio armato di Totorina. Questo non dobbiamo dimenticarlo. In questo frullatore di notizie che circola su Matteo Messina Denaro. E adesso vi racconto, lo ripeto, sta per incontrarsi il bagliardo con il dottore Ingroia, però dobbiamo stare su quella che è l'attualità. C'era una canzone di Fabrizio De Andrè, Il Bombarolo, che rilancia proprio quello in cui stiamo vedendo. A me, che ho vissuto quegli anni delle Brigate Rosse, mi sembra di essere tornato indietro. Quando vedevo sui muri scritte intorno alle scuole, le fabbriche, BR. Oggi vediamo i simboli dell'anarchia. Rivediamo la polizia in strada, riviviamo gli scontri. Allora vi faccio vedere quello che è successo ieri. Guardate. La tensione è alta. Da Torino a Roma, diversi gli atti di violenza della galassia anarchica sembrerebbe di gruppi internazionali anarchici in sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito. Delle minacce su un possibile attentato grave prossimamente a Bologna. alla prossima. Allora vi faccio vedere quello che è successo. Guardate. 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 L'uomo che vedete si chiama Raimondo Eitor, un ex brigatista, è stato condannato per concorso nel rapimento di Aldo Moro e della strage di Via Fani. Ha pagato, è stato in carcere molti anni, ho voluto che oggi fosse qui perché si parla di come sia possibile all'interno delle carceri legare mondi apparentemente lontani ma che si possono unire per un'unica strategia. Saluto Gianluigi Paragone, buonasera, e l'avvocato Yuri Maria Prado che scrive per il Libero e per il Riformista oltre a fare essere un avvocato importante. Allora, avvocato Prado, quando ho letto sul caso Cospito, lei ha scritto che praticamente è contro lo Stato del 41 bis, sta dalla parte di Cospito contro lo Stato, quindi è 41 bis da abolire al di là di Cospito? Sì, certamente, a mio giudizio sì, nel senso che ovviamente stare dalla parte di Cospito non vuol dire stare dalla parte dei suoi gesti criminali, non si tratta di questo ovviamente. Si tratta di analizzare l'appropriatezza o no di questa misura, di questa norma, a prescindere dal curriculum del detenuto che può essere responsabile dei peggiori crimini ma non si tratta di questo. Alcuni ritengono, siamo in pochi ma alcuni lo pensano, che questa norma presenti dei tratti di incompatibilità costituzionale per intendersi che sia illegale, ma questa è un'opinione che può essere condivisa o no. Al di là di questa opinione invece c'è un fatto e questo non è contestabile e il fatto è che questa norma nasce per una specifica esigenza e cioè per l'esigenza presunta o effettiva di tagliare, recidere la possibilità per i detenuti che siano appartenenti a quell'ambiente, diciamo così, di tenere rapporti con l'esterno, di dirigere, di fare direttive eccetera eccetera. Questa era l'esigenza. Bene, i modi con cui il famigerato 41 bis è di fatto attuato non hanno nulla a che fare con quell'esigenza. Domanda secca, domanda secca, avvocato, mentre saluto Augusto Minzolini, direttore del giornale che ci ha raggiunti, domanda secca, anche Matteo Messina Denaro è al 41 bis, lei lo abolirebbe anche per Matteo Messina Denaro, sì o no? Certamente sì, certamente sì. Però devi lasciarmi spiegare perché siamo rimasti in mezzo a mezz'area. Guardi, ha già parlato avvocato, lei ha detto no anche per Matteo Messina Denaro, voglio sentire una replica, poi abbiamo tempo. Prego, paragone. Allora, intanto il fatto di spiegare perché. Lo spieghi perché è per Matteo Messina Denaro, me lo spieghi cercando però, avvocato, di non fare una ringa, di essere preciso. No, 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 velocissimo, stavo dicendo e concludo brevissimamente, rispetto a quell'esigenza sicuritaria per cui è nata questa norma, i modi con cui è attuata non c'entrano assolutamente nulla, cioè questi sono tenuti 20, 21, 22 ore chiusi in cella, possono uscirne per qualche minuto in dei cunicoli, in degli spazi che sono insufficienti anche per i maiali, perché il bestiame ha diritto a più spazio, possono vedere i parenti, gli amici, i familiari, per qualche minuto al mese, non possono leggere libri, non possono ascoltare musica, tutta questa roba, con ogni evidenza nulla c'entra con l'esigenza sicuritaria. Lei la chiama tortura inutile, appartiene a quel pensiero che vede questo tipo di 41 bis, tortura inutile, va bene? Paragone e poi Minzolini. Il fatto che ogni tot si apre al dibattito sul 41 bis dopo i successi del 41 bis nella lotta alla criminalità mafiosa è preoccupante, perché vuol dire che comunque si inizia a bucare un principio. Io penso che il 41 bis sia stato e sia tuttora uno strumento importante nel pacchetto che vede tutte quelle disposizioni e tecniche anche per contrastare un fenomeno che non ha pietà. Cioè il fatto che l'avvocato Prado mi dica e tenti in qualche modo di pizzicare le corde emotive laddove noi sappiamo che il curriculum criminale di questo signore è arrivato al punto da bruciare, da portare un bambino a essere consumato nell'acido. Io onestamente, perdonatemi, ma io tutta questa carità cristiana non la posso accettare. Non c'entra la carità cristiana, non c'entra la carità cristiana, scusi, 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 mi permetta, mi permetta, mi permetta, perdone. Però il fatto che lei, avvocato, però il fatto che lei, in un'analisi, no, no, mi perdoni perché a Trenti poi diventa un monolo. Il fatto che lei prima, nello specificare rispetto alla domanda di Giletti il suo no al 41 bis rispetto a Matteo Missione di Anaro, abbia detto dello spazio dei maiali, vuol dire in qualche modo sensibilizzare o tentare di sensibilizzare il pubblico a casa. Il quale io credo che abbia le idee chiarissime. Perché un conto, se lei mi fa un'analisi tecnico, giuridica, la sua come quella di Gerardo Colombo, anche Gerardo Colombo ha rafforzato il dibattito sul superamento del 41 bis, anche in Europa ci sono delle contestazioni danni dell'Italia. Però, perdonatemi, almeno risparmiatemi sta cosa dello spazio in cella sul 41 bis rispetto ai maiali. Perché laddove hanno bruciato, consumato, ucciso un bambino in quel modo, perdonate, io non ci riesco. No, 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 mi scusi. Ma insolvami, è un limite mio, avvocato. Un attimo, avvocato, un attimo, gentilmente, facciamo parlare chi il carcere duro l'ha vissuto. Ex brigattista, in carcere per il rapimento Moro, la strage in Viafani. E' un dibattito così, come lo vede lei, inutile, forzato, che aiuta, come qualcuno dice, la Meloni a vincere, no? Perché richiede maggiore sicurezza. Io ho avuto la fortuna di non vivere il carcere duro, in quanto poi arrestato dopo diversi anni, quando, per così dire, si erano già calmate. Ma quello che posso dire è che comunque la battaglia contro il 41 bis è una battaglia storica della mafia che purtroppo si è venuta a saldare con gli anarchici, che forse sono gli unici che hanno a che fare con i bandati psicopatici che hanno a cuore risorti di cospito, e con la sinistra che sta strumentalizzando questa situazione, anzi, gettando benzina sul fuoco, ancora rancorosa per aver perso l'elezione. Quindi c'è sicuramente un gioco delle parti, un gioco politico. No, perché, sai, a me viene in mente che in un verbale, Buscetta, famoso boss della mafia, raccontò che quando era chiuso all'interno del carcere di Cuneo, che era un carcere importante, dove c'erano i uomini delle Brigate Rosse e i mafiosi, la mafia gli fece arrivare un messaggio dicendo convinci i brigatisti ad assumersi la responsabilità dell'omicidio del generale dalla Chiesa. Questo agli atti è stato appurato. I brigatisti ci pensarono e poi risposero no, l'avete ammazzato voi, è un problema vostro. In carcere, per la sua esperienza, questi cortocircuiti possono esistere? Ripeto, io non ho vissuto il periodo del carcere duro, però comunque in carcere si creano degli interessi strani tra detenuti cosiddetti politici e mafiosi, nel senso che ci sono degli interessi comuni. Però lei dice che è la mafia che da sempre vuole una cosa, l'abolizione anche nel famoso papello, nella trattativa. INA fece dei riferimenti alle Brigate Rosse, al trattamento delle Brigate Rosse, il quale anche i brigatisti, noi brigatisti eravamo stati esclusi dai benefici della legge Gozzini inizialmente, quindi anche noi non si chiamava 41 bis, si chiamava articolo 90 se non sbaglio. L'avvocato Prado, adesso sentiremo il direttore Minzolini, l'avvocato Prado fa questa difesa indipendentemente dal mafioso, non mafioso, anarchico, non mafioso, dice che è un carcere per animali, senza umanità, senza nulla. C'è sicuramente un fatto umanitario, dato che comunque io devo riconoscere, io posso parlare per me e non per altri, io come ex brigatista devo dire che lo Stato nei miei confronti si è comportato in maniera molto più tollerante e clemente di quanto il saremmo stati per assurdo noi se per assurdo avessimo vinto, cosa impossibile, però ovviamente noi abbiamo alle spalle la storia del comunismo che sotto l'idea, l'ideale della libertà ha creato poi un inferno, con l'idea di creare il paradiso in terra poi ha creato in realtà il paradiso. Augusto, ti fanno effetto le parole di Etro o confermano quella che è una tua teoria? Mi fanno effetto però perché mi dà un dato che secondo me è importante, nel senso che il 41 bis non è un aggravante rispetto alla pena per i reati che sono stati commessi, ma è una misura di prevenzione per evitare che qualcuno abbia dei rapporti con l'esterno e quindi possa concorrere a fare nuovi reati o comunque a indicarli, a comandarli. Allora il problema qual è? E inutile noi ragioniamo sul fatto se il 41 bis è giusto o meno, noi abbiamo l'esperienza diciamo di questa lotta alla mafia che ormai va avanti da 30 anni e beh quello è stato uno strumento essenziale per decapitare diciamo il rapporto tra i capi mafiosi e la base mafiosa e quindi diciamo è essenziale che rimanga quello strumento sempre che qualcuno non abbia la voglia di dire che la mafia non esiste più perché se tu poi togli allo Stato uno degli strumenti indispensabili per riuscire a tenere sotto controllo il sistema mafioso è evidente che tu da questo punto di vista poi ti assumi una grande responsabilità politica. Perché ti faccio il discorso di prevenzione? Perché poi tutto quello che è avvenuto al dibattito che c'è stato in questi giorni parte da un presupposto, è come se di fatto ci possa essere una decisione da parte della politica su un tema che riguarda invece soltanto i magistrati, sono i magistrati che hanno le informazioni e la perizia per capire se per caso è diciamo quel capo brigatista, quel capo anarchico, quel capo mafioso può ancora concorrere a creare i nuovi reati. Allora se questo è il dato è inutile che la politica si mischia perché il momento che la politica rispetto alla magistratura che dice dobbiamo mantenervi, prende una decisione diversa, si assume la responsabilità se un domani attraverso quel meccanismo di comunicazione vengono di fatto commessi altri reati. Ecco è una cosa assolutamente di prevenzione e quindi è inutile parlarne in termini generici. Siamo andati ieri a un corteo degli anarchici, ci siamo infiltrati anche noi all'esterno, Cristina Mastandrea, poi la parola all'avvocato Prado che vedo che si sta in nervosene. Noi, Alfredo, è il 41b! Proseguono a Roma le proteste degli anarchici per chiedere l'abolizione del 41b per Alfredo Cospito. Si sono dati appuntamento su Lungotevere davanti al Ministero della Salute. Perché il 41b sia un regime di tortura incostituzionale! Noi, Alfredo! Se Alfredo muore, voi vi siete messi nel mirino delle armi rivoluzionarie. Cospito scriveva, la lotta armata è l'unica via. Io personalmente condivido questa sua idea. Penso che con le buone questa gente non ci darà mai niente. È giustificata la violenza? La violenza la stanno facendo loro contro Alfredo, se fosse un tuo fratello e tu avessi solo due alternative, o lasciar correre, o giustiziare i responsabili. Cosa vuol dire giustiziare? Ammazzarli. Ucciderli. Fargli pagare l'infamia che stanno facendo. Qui siamo invece all'Università La Sapienza, dove gli anarchici hanno organizzato un'assemblea pubblica, insieme ai collettivi degli studenti. Abbiamo provato ad entrare, ma anche senza telecamera ci hanno fatto uscire dall'aula. La signora, l'Università! Adesso è arrivato il momento che è ben andate. Andiamo a spingere però. Allora, spingere. L'Università, 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 l'Università! E arriviamo a sabato. A Roma gli anarchici si sono dati appuntamento a Piazza Vittorio, dove hanno dato via ad un corteo non autorizzato. Massimo, uno guarda queste immagini, io recupero il mio status di giornalista, ma avvocato, di fronte a queste immagini e di fronte alle parole deliranti di quel vali tutti, ma lei com'è che si sente ancora nella condizione tecnica, sembra quasi un solfeggio cantato, mi perdoni. Se vuole glielo spiego, perché questo applauso dice tutto. Ovviamente quelle che abbiamo sentito sono farneticazioni delinquenziali che debbono essere trattate per quello che sono, ma non c'entrano nulla con la questione di cui stiamo discutendo. La realtà è che tutta la chiacchiera intorno a questo famigerato 41 bis nasconde un'altra realtà, nasconde la realtà di una classe politica e di destra e di sinistra, che non ha il coraggio, o perché non vuole o perché non ha le palle, di fare al proprio elettorato un discorso molto semplice. Tipo? Impopolare, ma semplice da fare se si vuole. Il carcere serve per isolare le persone attualmente pericolose, per impedire loro di nuocere. A questo serve. In alcuni casi, in maniera ulteriormente rafforzata, 41 bis per recidere quelle possibilità di collegamento. La roba di cui abbiamo parlato prima, di cui ho parlato prima e su cui non avete risposto, è che il pacco di misure con il quale si pretende di attuare questo famigerato 41 bis, con quell'esigenza di sicurezza, non c'entra nulla. Mi si spieghi per quale ragione uno di questi qui non possa leggere il libro che vuole. Mi si spieghi per quale ragione abbia minuti d'aria dopo 21 ore di restrizione. E quando lei mi dice, ma non venga a impietosirmi con il discorso sui recinti per i maiali, questo è indicativo, perché lei mi dice, seguendo l'impostazione, mi scusi se lo dico, forcaiola dell'elettorato di destra e di sinistra, che siccome questi hanno fatto cose orrende, cosa indubitabile, debbono essere trattati male. Ma se questo è il criterio, non basterebbe neanche la tortura. Perché uno che scioglie un bambino nell'acido, allora io lo scioglio nell'acido. Premesso che a me dello sciopero della fame di Cospito non me ne frega niente e per me può fare tutto lo sciopero che vuole e lì ci rimane, perché è una sfida nei confronti dello Stato, quindi io non provo alcuna pietà umana nei confronti del soggetto. Quindi gliela dico tutta, mi prendo del forcaiolo, mi dica quello che vuole. Il 41 bis è proprio perché deve isolare. E se io ti isolo, non posso cominciare a dire ti isolo ma ti do il permesso del libro e dopo che ti hai dato il permesso del libro ti do il permesso del cellulare e dopo ti do il permesso di qualche cosa, la verità è vera che il 41 bis... No, ma no, ma no, ma no. Ma io la penso così. Lei lo so che da garantista puro, però attenzione perché poi la vittoria dei garantisti puri si salda con le richieste dei mafiosi. Lo so che non c'entrate niente, però alla fine si salda lì in quel punto, perché forse per voi il dibattito dottrinale deve avere come capolinea il superamento del 41 bis, che è esattamente là dove vogliono andare loro. Augusto, se vediamo l'immagine di Cospito, vorrei capire se Cospito muore e diventa un martire. E l'obiettivo di Cospito potrebbe essere questo, passare alla storia come martire. Cioè uno Stato deve anche valutare, poi sarà la Cassazione a dare la parola finale tra poco, credo, ma comunque rimane nelle mani del Ministro di Giustizia la decisione. Ricordiamo che lì, su decisione anche della precedente Ministro, la dottoressa Cartabia, ecco, tanto per essere chiari, prego. E il rischio c'è però, eh? No, ma io... No, il rischio c'è, anzi, nell'atteggiamento di Cospito, è evidente, c'è quasi un'ansia di martirio. Però, torno a dire, io sono un garantista, per cui sono assolutamente convinto, però sono due cose assolutamente diverse. Cioè, perché io dico che la questione riguarda la magistratura? È la magistratura che deve dire, se Cospito, con il collegamento che può avere all'esterno, può di fatto concorrere a nuovi reati. Ed è una cosa che appartiene a quella sfera, perché, lo ripeto, la politica non può assumersi delle responsabilità se poi un domani, un domani, diciamo, avviene quello che... Di fatto, questo collegamento crea i presupposti per un reato. Che fa? Si assume una responsabilità se per caso, subito dopo, c'è qualcuno che viene gambizzato? No, non credo che nessuno lo voglia fare. Anche perché, poi, se tu hai a vedere se noi dobbiamo essere giusti, qui nessuno vuole l'abolizione del 41 bis. Cioè, ho visto che c'è stata molta polemica, ma c'è stata molta polemica strumentale, perché purtroppo molto spesso su questi argomenti si va, diciamo, finiscono nella polemica politica e quindi si perdono, diciamo, i punti di vista reali e soprattutto gli aspetti importanti. Allora, io sto a dire... Scusa un secondo, direttore. La persona che state vedendo è un testimone importante del racconto che faremo in questa serata, perché ha vissuto un rapporto molto lungo con Matteo Messina Denaro. Noi questa sera faremo vedere dei documenti esclusivi legati a questo rapporto e quindi tra poco ne parleremo. Sono degli audio molto forti. Quando finiremo questa parte, entreremo nella zona delicata. Scusami, direttore, se ti ho interrotto. No, no, ti pare. Il rischio che diventi un martire c'è per lo Stato? Entro? Giocherà a far questo? Io credo che siamo di fronte un po' alla stessa situazione di Cesare Battisti, che per circa 30 anni ha preso per in giro lo Stato facendosi fotografare anche sulle spiagge di... Tra Parigi, Brasile, eccetera. Oltretutto con la cosa peggiore è la solidarietà che gli è stata fornita da un certo tipo di sinistra. La cosiddetta intelligenza. Della quale a lui non importava sicuramente niente. Ci sono già stati episodi, come è successo, già con la strage di Premo Valle, con Lollo, la sinistra che fece una petizione dicendo che Lollo era innocente. C'è stato anche con Calabresi per il fatto di Sofri, che intellettuali che firmarono la petizione che Sofri era innocente. In realtà si tratta di colpevoli. Colpevoli che si vergognano di ammettere le proprie responsabilità strumentalizzati e fomentati dalla sinistra. Una certa sinistra... Però, Avvocato Prao, lei si rende conto? Allora, lei dice che il 41 bis va abolito a prescindere. Ma scusi Giletti. Lo ripeto. Ma Giletti, abbia pazienza. Ma qui il discorso è sul fatto che siano colpevoli o no. Certo che sono colpevoli, ma che cosa c'entra? Poi, venendo a paragone a quello che diceva, se dovessimo retribuire questi responsabili di crimini molto efferati con la stessa moneta, non basterebbe la tortura, no? Non basterebbe la tortura, perché se devo rifarmi a quel criterio, siccome hai fatto cose mostruose, devo trattarti mostruosamente, ti torturo. Poi, se vogliamo risolverla totalmente, per recidere tutto, li decapitiamo proprio. Ragazzi, però piantiamola. Non c'è tortura nel 41 bis. Non c'è tortura nel 41 bis. Non facciamo... No, non c'è nessuna tortura. Allora vada a denunciare la tortura. Vada a denunciare, perché non c'è tortura. È una tecnica, è una tecnica normativa per isolare i boss. Ma quale tecnica, ma quale tecnica, ma quale tecnica? Ma quale tecnica? Non far leggere un libro è una tecnica? Non far leggere un libro è una tecnica? Non far asfaltare musica è una tecnica? Stiamo parlando di isolamento. Ma questi non possono ricevere la visita. Prado, mettitelo in testa. Se è isolamento, è isolamento. Facciamo a chi urla di più? No, ma ragazzi, o è isolamento, oppure tana libera a tutti. Dai, ditelo. Ma voi l'avete detto? Ma guardi, lei lo ha detto. Facciamo a chi urla di più? Io non voglio il 41 bis. Lei lo ha detto, ok? Quindi, partiamo da questo concetto. Lei vuole abolire il 41 bis. Non giriamoci attorno. Quindi funziona che... Puto, ma le posizioni sono quelle. Oh, infatti non andremo mai d'accordo. Io voglio abolire il 41 bis. Io voglio... No, non andremo mai d'accordo. Però io dico cose rispondenti ai fatti. Lei gira intorno, lei fa lo slalom. Ma non è vero. Lei non risponde a questa questione. Guardi. Lei non risponde a questa questione. Oltre a non farmi parlare. Oltre a non farmi parlare. Si sta zitto un secondo? Lei non risponde a questa questione. È vero o non è vero che il 41 bis nasceva per quell'esigenza sicuritaria. Recidere i legami, bla bla bla. È vero o non è vero che rispetto a quell'esigenza sicuritaria il non fare ascoltare musica, il far vedere il figlio per tre minuti al mese, non c'entra nulla. Vedo che lei non capisce. No, vedo che lei non capisce. Come se scoprissimo adesso che la mafia parla in codici. Lei non risponde. Lei non risponde. Lei che è un po' tonto, mi perdoni. Perché lei non capisce che la mafia parla in codici e mandare dei libri è un codice, ok? Non è che Falcone, Borsellino... Di cui, aspetta, di cui Salvatore Baiardo che stiamo vedendo dietro le telecamere conosce molto bene il significato. Perché anche usare la televisione, mandare messaggi attraverso il video è possibile. però sentivo direttore a chiudere questa parte perché stanno per entrare in groia e baiardo. Per mandare dei messaggi all'interno! Vai in sintesi, prego. No, ma io quello che volevo dire all'avvocato cioè io seguo il suo percorso logico però non è che può dire lei quali sono gli strumenti che portano all'isolamento ad evitare la possibilità di un nuovo reato ma sono chiaramente i magistrati, sono loro che si assumono la responsabilità. Pensano che in questo momento cospito può farli fra sei mesi pensano che invece cioè maturano l'idea che questa non è gli tolgono il 41 bis ma non è un meccanismo sul cui andiamo a ragionare il tasto di garantismo che c'è perché altrimenti è illogico. Ma guarda che la mafia è illogico proprio quello che lo serve. Lo strumento è fatto per evitare che si creino nuovi reati. La mafia parla anche attraverso la consegna dei libri cioè attenzione c'è di detto ci sono dei messaggi in codice ma ragazzi se non capiamo queste robe allora sì c'è l'ha c'è l'ha certo che c'è l'ha c'è la Spectre di Beethoven c'è la Spectre di Beethoven Si vede che lei evidentemente non ha mai assistito uno a 41 bis perché altrimenti Allora vi ringrazio No 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 Avvocato, avvocato, la ringrazio Ringrazio Paragone Ringrazio Etro Per essere stato con noi Augusto Minzolini tra poco tornerà E io però vi voglio portare In quello che sarà un confronto Tra Salvatore Baiardo Che avete visto dietro a telecamere Io l'ho definito un grande giocatore di poker Un uomo molto vicino Ai fratelli Graviano Che con le sue interviste Con le interviste che ha fatto con me Non solo ha fatto il giro del mondo Ma Diciamo Ha prestato il fianco a una serie di interpretazioni Chi dice Pura fuffa Un vero mestatore e rimestatore di cose Avvelenatore di pozzi Però in quell'intervista Ha detto molte cose che poi si sono avverate Nei tempi da lui indicati Con le modalità Da lui indicate Vedremo tra qualche istante Cosa avrà da dire All'ex PM Antonio Ingroia Ma intanto Vi faccio vedere Se questi sussurri Di Baiardo Hanno un peso forte Ascoltiamo Perché tanto tempo fa A me disse Io non voglio parlare di Matteo Messina Denaro E adesso parla di Matteo Messina Denaro Perché allora fece così? Vai Chi ha i documenti Oggi secondo lei? Matteo Messina Denaro per esempio Potrebbe avere lui? Guardi Non voglio parlare di lui Di lui non voglio parlare Ma dicono che sia morto Che non ci sia più E allora se è morto Lasciamolo tranquillo Lì Non voglio parlare di lui Ma lei l'ha mai visto? Non voglio parlare di lui Diretti Il dottor Messina Che lei conosce No? Il dottor Messina L'aveva anche incontrato ai tempi Quando parlava dei rapporti Tra Graviani e Berlusconi Se non sbaglio Disse che Aveva riscontrato Tante cose Che lei aveva detto Però E Rimano un po' perplesso Sul fatto che lei oggi parli molto Allora Di Matteo Messina Denaro Avamo sul lago d'Orta Credo fosse Le primavera del 2021 Due anni Due anni fa Due anni fa circa Lei quando io l'ho detto Mi vuole dire una cosa E mi diceva No Di Matteo Messina non parlo A novembre ha detto Delle cose precise Che cos'è cambiato? E gliel'ho detto Non volevo parlare due anni fa Non erano i momenti giusti Ma perché faceva ancora paura? No Perché si vede che ancora C'erano in ballo Determinati accordi Degli accordi tra chi? Tra Messina Denaro Di sicuro Con chi? Non me lo chiedo Giletti Ma lei allora non sapeva Perché quando mi incontrò Non mi disse Che era malato Che stava male Era malato Ma non era così grave Come quando l'ho chiamata L'ultima volta Lei mi chiamò Perché aveva avuto La notizia Che da poco sapeva Che era molto male Ammalato Non c'era tanto Ha detto delle cose Che possono depistare No? Come mai oggi parla? E lì in quell'immagine Hai visto? Non voglio parlare Beh Ovviamente L'interpretazione Più possibile Quella Che ha detto lei Cioè Quello che è cambiato È la malattia Di Matteo Messina Denaro L'aggravarsi Della malattia Il dato Però importante È che Baiardo Sapesse E non è che lo sapevano in tanti Che la malattia Si era aggravata È vero Come si dice Correva voce Che Matteo Messina Denaro Fosse malato Ma nessuno davvero Tranne pochissimi Sapeva Che fosse gravemente malato E la grave malattia Può avere determinato Due ipotesi La prima Quella più riduttiva La quale io credo meno E cioè Che sia stato Matteo Messina Denaro Che essendo Ha aggravato La sua malattia Come dire Ha abbassato la guardia E va bene La seconda Ma questa prima ipotesi Non combacia Con la profezia Di Baiardo La seconda Se vogliamo pensare Che Baiardo Non sia Né un folle Né un visionario Né uno Un kamikaze Che si espone A rischi terribili Ma poi sono domande Che io vorrei farle Direttamente È un giocatore di poker Ma il giocatore di poker Non fa dei bleff Al rialzo Se non sa di avere In qualche modo Qualche carta In mano E immagino Che le carte Lui le avesse Allora c'è la seconda ipotesi La seconda ipotesi È che Le condizioni Di salute Gravate Di Matteo Messina Abbiano favorito Un percorso Che poteva portare All'accelerazione Dell'arresto Matteo Messina Io lo richiedo Per un Io lo voglio richiedere Lei I ROS Continuano anche De Lucia Procuratore di Palermo A dire Non c'è nessun tipo Di dietrologia L'abbiamo preso noi E quant'altro Nessuna trattativa Non guardate A quello che è successo Nel passato E io lo ricordo ancora Attenzione Perché il bandito Giuliano Si raccontò Che i carabinieri Hanno fatto un conflitto a fuoco Falso Ci furono tutti verbali La verità Venne successivamente La stessa storia Conto Torina Grandi misteri Grandi dubbi La verità Poi dopo viene fuori Però Loro dicono Abbiamo preso noi E lei mi sorride sempre Quando dico questo Ma è giusto Lei Non è che vuole sporcare Lo Stato Dicendo E siamo noi I mafiosi Che l'abbiamo fatto prendere Comunque Comandiamo noi Giletti È giusto Che dicano così I magistrati Perché l'Italia È giusto Che debba sapere Che hanno fatto Un buon lavoro No vabbè Vogliamo arrivare a pensare Che anche i magistrati Abbiano partecipato All'attacco di Non esageriamo Su questo strato Non sto dicendo questo io Non sto dicendo questo E allora che sta dicendo E sto dicendo Che ci possono essere Dei retroscena Che magari All'insaputa Degli stessi magistrati E delle forze di polizia L'hanno arrestato Come è successo Anche in altre occasioni Io la butto lì Se posso fare la domanda diretta Lei è stato PM per anni Qui lo può fare Quindi la butto lì Un'ipotesi E lei mi dirà Magari questa trattativa Stavolta Non era una trattativa Fra Chi Cercava E chi era cercato Ma era una trattativa All'interno Del blocco Di Cosa Nostra Per dire A Matteo Messina Beh visto che sei Gravemente malato Consegnati che ci serve Il tuo arresto E' stato lei portavoce Di questa ambasciata Per Matteo Messina Adenaro Chi sono io Per essere così Ambasciatore Di questa cosa Beh Matteo Messina Adenaro Sono uno Completamente fuori Da queste cose Però lei non è stupido Non l'ho mai interrogata Non l'ho mai incontrata Prima d'oggi Tantomeno interrogato Quando facevo il mio vecchio mestiere Però mi sono reso conto Dalle sue interviste Che lei Non è stupido Anzi è molto intelligente E' anche abile Ha una sua forma Di prudenza Non è un kamikaze Quindi se lei Si è lanciata In questa cosa Non era così Irresponsabile Da dire questa cosa Sfidando Matteo Messina Adenaro Da una parte E i Graviano Visto che era facile Interpretare Che se lei parlava Parlava come Ambasciatore Dei Graviano Come è stato detto Quindi Lo ha fatto Perché qualcuno L'ha mandato a farlo Giusto Pensano così Posso mica cambiare Io i pensieri Della gente No no vabbè Io ho fatto sempre Il gelataio Eluda Io ho fatto sempre Il gelataio E non è che ho fatto Sì però Lei fa il gelataio E fa le professe Di colori diversi E' un bravo Produttore di gelati Sai che il gelato Ha tanti gusti I gusti cambiano Tante persone Ruotano intorno a lei E possono averle detto Vai lì Ma perché Mi ha detto Vai lì Quel giorno Io devo dire Quella cosa lì Quel giorno Qualcuno Gliel'ha detto Anche lei L'altra volta Disse A Palermo C'è qualcuno Non c'è solo Il graviano Non pensate Che siano solo Il graviano Io non sono Il ventricolo Il graviano Ha detto E allora chi è Perché lei Non va in televisione Da solo Così a dirla Una cosa Aveva un obiettivo Non me lo dica Mi dica Sì aveva un obiettivo Ma gliel'ho detto L'altra volta Non sono il graviano E' qualcun altro Non sto dicendo Che non è vero E' qualcun altro E' qualcun altro Allora Qualcun altro Diciamo Del mondo In senso Ampio Dei graviano Ecco Di quel mondo Deve esserci sempre Di mezzo Il graviano E purtroppo Lei è stato condannato Per il rapporto Se uno cerca Di far tirare via Di far tirare via Il 41 bis Per i fratelli graviano Ma sapete Quanti ce n'è Al 41 bis Ma ci sono solo I fratelli graviano Sbagliato Sbagliato Ci sono soprattutto I fratelli graviano Ma qualsiasi cosa Lei ha coperto La latitanza di graviano Ci sono sempre Abbiamo letto Sui giornali Che aveva fatto Un viaggio a Milano Per incontrare Delle persone Simili alle cose Destinatari Dei messaggi Di graviano Al processo Del reggio Calato Allora gliela posso fare Io una domanda Visto che lei me ne fa una Io gliene faccio una E poi Gliela faccio fare Dopo la pubblicità Però prima Prima E' una domanda dura E' una domanda Che le faccio fare Tanto il dottor Nego è abituato Prima però Voglio farvi ascoltare Perché torniamo Al tema di questa serata Tra poco Una persona Racconterà Questo rapporto Che è durato Molto tempo Con un uomo Che lei pensava Fosse un altro Invece poi si accorge Nel momento in cui Viene arrestato Che quell'uomo Con cui lei parlava Quell'uomo Con cui lei dialogava Quell'uomo Con cui lei a volte Mangiava Era Matteo Messina Denaro Ascoltate l'audio Che vi fa capire La violenza che c'è Che si scatena All'improvviso Dentro Matteo Messina Denaro E' fermo in autostrada Sta per entrare Dentro Palermo Ma quel giorno Il 23 maggio Ci sono le commemorazioni Della strage E quindi Il traffico è rallentato Ascoltate cosa dice Io ho qua bloccato Con le quattro gomme a terra Cioè a terra Senza non buccata Sull'asfalto Non si muove Per le commemorazioni Di città minchia Comunque Senti questa Porco mondo Che effetto le fa Baiardo Sentire questa voce Sono parole dure Parole Molto dure Cioè esce Nel tono L'ha sentito No? Il vero Il vero boss Esce Parole di rabbia Parole Dure Non perché nel traffico Quella è una conseguenza Il traffico Però Faremo la domanda Tra qualche istante Quella che deve fare Ecco la persona Che sta per entrare Lei E ci sentiremo Altri messaggi Altri passaggi Altri Soprattutto altri scambi Che ci sono stati Tra di loro Racconteremo Come sono entrati In rapporto Con questa persona Dopo la pubblicità Si parleranno In Groia E Baiardo E c'è questa domanda Che vuole fare Salvatore Baiardo Adesso siamo pronti Per ascoltare La domanda Che Salvatore Baiardo Vuole fare Poi però Al dottore In Groia Ma Mi piacerebbe Poi magari Che questa sera Anche lei Abile giocatore Ricordasse Quella cosa Che mi disse Sono un giocatore Di poker Ma poi Non puoi sempre Bleffare E non si può Sempre giocare Ecco Siccome lei ha detto Io voglio tornare Per dire delle cose Io poi le voglio parlare Dei Guttadauro Perché è il nome importante Si parla di chi c'è Domani Vediamo Le faccio solo Ascoltare una cosa E poi le faccio Fare la domanda Le motivazioni Chi sono i mandanti Noi cerchiamo di capire Chi sono i mandanti Di queste interviste Che Baiardo fa E anche della presenza Oggi qui Roberto Scarpinato Nino Di Matteo Ascoltate cosa dicono Di lei Quello che è cambiato E forse Ce lo potrà spiegare meglio Giuseppe Graviano E il suo portavoce Salvatore Baiardo Che due mesi fa circa Ha anticipato Che Matteo Messina Denaro Si sarebbe fatto arrestare E lui ha detto Che questo Era intrecciato L'ha detto lui All'uscita dal carcere Dei boss mafiosi E lo ascolteremo E lo ascolteremo dopo di noi Da Ciletti Il futuro ci spiegherà Il futuro ci spiegherà Quello che è accaduto Quindi lei si fida di Baiardo Questi sono fatti Che devono essere approfonditi Non possono essere liquidati Come Per esempio Le parole di Baiardo Le parole di un Di un truffatore Di un millantatore Qualsiasi Perché in ogni caso Va capito Perché Quel soggetto Ha detto quelle cose Che segnali Intendeva mandare Se quei segnali Erano mandati Per conto In nome e per conto Dei fratelli Graviano Che assieme a Matteo Messina Denaro Sono stati I principali protagonisti Della stagione stragista Guardi che in passato Erano state liquidate Come Fantasie E teorie Complottistiche Anche altre vicende Quella della mancata Perquisizione Del covo di Rina E quella Della latitanza Di Provenzano Coperta da una parte Delle istituzioni Sono due personaggi Che la mafia La conoscono Hanno indagato Continua Uno adesso Fa senatore Ma Dino Di Matteo È sicuramente Parte il magistrato Più scortato d'Italia È messo a rischio La vita La sua vita È a rischio Riconosce Attendibilità Quello che dice Sono in pochi allora Sono in due Perché tanti loro colleghi Evidentemente Non la pensavano Come loro Ma lei parlò Per lo stativo Perché lei mi disse Lotto Cioè lei Se lo ricordano Quel periodo Era quello Siccome Prima avevamo L'avvocato Prado Che ha detto Che non si studia Non si possono leggere libri Graviano Si sono laureati In carcere o no? Tutti e due fratelli Quindi si possono leggere libri Anche a 41 bis No lo dico Tanto per dire Come mi suggeriva L'avvocato Rigotti Durante la pubblicità E me Faccia la domanda Visto che non vuole rispondere Sì poi le faccio Anch'io Un paio Un paio Allora facciamone una testa Facciamo una Io volevo chiedere a lei Una cosa semplicissima Ma molto semplice Quando le ha interrogato Giuseppe Graviano Al processo Andrangheta Stragista Continuava a farle Delle stesse domande Che facevano Tanti altri Suoi colleghi Però il signor Graviano Le ha detto una cosa Sia a lei Che al PM Lombardo Ma in questo periodo Da quando lui vi ha detto Determinate cose A oggi Avete fatto qualcosa? La domanda ovviamente Non serve per rivolgere a me Che non faccio più il PM Sì Ritengo proprio Sì Perché la procura di Firenze Quei famosi cassetti Che ha detto Il signor Graviano Era nel periodo Che lei era PM A Palermo Che lei indagava Su quelle cose Però quei cassetti Non si sono mai Voluti aprire Allora Graviano Lì è stato Piuttosto generico No non è stato generico Un riferimento Alla questione del padre L'omicidio del padre Che fu negli anni 80 Poi disse Alle domande Che noi abbiamo fatto Sull'agenda rossa Sull'omicidio Agostino E vabbè Ha detto Avete le prove Nei cassetti Ci dia Lui evidentemente Non ci ha dato La chiave di lettura E vabbè Deve dare la chiave di lettura Per scoprire Ma ve l'ha proprio messa lì Scusi L'omicidio Agostino Era l'omicidio Di quel poliziotto Di cui il padre Ancora oggi Va in televisione E dice Io voglio la verità Voglio capire Cos'è successo E quindi Dice che In groia Non ha indagato Questo sta dicendo Ma non voglio dire Lui Solo lui Perché c'era un pull Ai tempi Avevate il pull E abbiamo indagato A lungo Ma non avete aperto I cassetti Ma non avete aperto I cassetti giusti Allora E allora Non dovete venire A cercare le verità Solo da una parte Fai il giocatore di poker E quindi E quindi Prova a cambiare La cartettina Ora vabbè Lei ha fatto la sua domanda E io le ho risposto Però le faccio io le mie Però lei non mi ha risposto No io le ho risposto Le indagini sono state fatte C'è oggi un processo E allora posso dire Sono state fatte male C'è un processo Oggi Sull'omicidio Ma posso dire Le indagini Sono state fatte male Ma chi è che Allora ci dica lei Graviano Ci dia una mano Scusi Allora lei ci dia una mano Esatto Se lei dice questo Vuol dire che oggi Qualcuno le ha detto Graviano A Ingroia All'ergastolano Io faccio il gelataio Qualcuno dovrà fare L'investigatore Chi fa l'investigatore L'investigatore Non si può fare Se non c'è Una indicazione Che ci dà Gli elementi di prova Si possono fare Con i teoremi Le congetture Qual era Questa indicazione Possiamo dirla No la sanno loro No ho detto Le prove Questa è l'indicazione Ci sono le prove Nei cassetti Non si dicono Le cose Non si dicono Posso allora Quando lui vi viene anche a dire Mandate indagare Sull'arresto Perché i carabinieri Non dicono Quello che devono dire Sull'arresto di chi? Sull'arresto di Carabinieri Ah beh Allora torniamo A una storia Delicata Molto delicata Che riguarda Lì ci stanno Le sue accuse a Berlusconi Lì ci stanno Lì ci stanno Comunque dell'indagine Sta facendo Che io sappia Ma io non faccio più Quel mestiere Ho capito La procura di Firenze La procura di Reggio Calabria Il dottore Come è stato sentito Quattro volte Sia Graviano Sia Graviano Sia lei Che ha fatto Da portavaggio di Graviano Ci deve essere Qualche Qualche notizie Ma noi abbiamo parlato Con la procura di Firenze Anche Graviano in carcere Ha parlato Ho letto io oggi Sui giornali Che lei ha fatto Un viaggio Per andare a controllare Silvio Berlusconi E ho letto Sui giornali Lei smentirà o meno Nello Trocchia Dieci giorni fa Dice Primo a dire Raccontare Che Salvatore Bagliardo Andò A chiedere Un posto di lavoro Un posto di lavoro Al fratello Credo di Berlusconi Paolo Paolo Poi oggi Lirio Abate Lo riprende su Repubblica Però devo dirle la verità A me lo raccontò Sul lago d'Orta Dicendo Io ero in grande difficoltà Bussai a quella porta Però lei capisce Bagliardo Sì però Che non è che si bussa La porta di Paolo Berlusconi Così Detto tra me e lei No Lì c'è una verità Allora E forse sarebbe il caso Di dirla Sei come il fratello Allora però Non so Ma dico Siccome Ingroia Ascolta Ascolta Lei si ricorda Cosa faceva Silvio Berlusconi Io non sono La interrompo un attimo Poi la faccio finire Se non è iniziato Come mi interrompe Si lega al mio discorso Si ricorda Silvio Berlusconi Cosa faceva Durante il periodo elettorale Lui promuoveva Da lavoro a tutti Da lavoro qua Da lavoro su Da lavoro giù Io non potendo arrivare a lui Che non so neanche chi è E sono andato a bussare Alla porta Della fratella Quindi tra tutti Gli imprenditori Ha scelto Berlusconi Ma il punto è Siccome appunto Io non sono giocatore Di poker Ma non sono fesso Che Non posso credere Che sia una coincidenza Che lei si è presentato Giusto Alla famiglia Berlusconi Quando Graviano Tra le righe Fa intendere Che il suo arresto A Milano Quei giorni Che doveva fare Degli incontri Sia collegato In qualche modo Agli incontri Con Dell'Utri Con Berlusconi Lui dice con Berlusconi Dice che non c'è Dell'Utri Anche se lei dice Di avere partecipato A telefonate In cui Dell'Utri Telefonava Graviano E giusto caso Lei chi va a trovare Silvio Berlusconi Paolo Paolo Poi incontra Paolo Ma forse Voleva incontrare Silvio E seconda cosa Aspetta un secondo Paolo Paolo ricordiamolo Dice Mi ha mandato Un messaggio minaccioso Dice più o meno Dice Ricordiamolo Cioè Baiardo Mi ha dato Un messaggio Un po' Ma me lo dico in faccia Visto che lei ha citato Le dichiarazioni Io sono andato Col mio curriculum Di lavoro Visto che lei ha citato Le dichiarazioni Di Graviano Al processo In Reggio Calabria Fatte Al PM Lombardo E poi anche a me Quando si riscaldò E io gli feci le domande Per approfondire Il tema Dei suoi rapporti Con Silvio Berlusconi Guarda caso Lui ha mandato Dei messaggi Proprio a Silvio Berlusconi L'ambasciatore Mi scusi se la La definisco così Di Graviano Va da Paolo Berlusconi E Graviano Dal carcere Manda messaggi A Silvio Berlusconi E' tutta una coincidenza Dobbiamo credere Che sia una coincidenza Fermo Fermo Aggiungo un'altra coincidenza Anche questa Lei ha il vizio Di andare su TikTok Ma non è che annuncia La presenza Questa sera Al Non è l'arena In un luogo normale Di Roma Va in via Veneto E il dottore Ingroia Sa perché Va in via Veneto Un'altra coincidenza E' un'altra coincidenza Guardiamo Baiardo Oggi Buongiorno amici Come avete visto Sono già arrivato a Roma E ho voluto iniziare Dalla colazione Al bardone Del famoso Pentito Spatuzza Dell'incontro con Graviano Abbiamo il paese Nelle mani Niente Vi aspetto Numerosi Stasera Alla 7 Dal Giletti Alle 21 e 15 Grazie Buona domenica A tutti voi Una pratica E sono andata a fare colazione E guarda Un po' proprio Lì dove c'è stato Il famoso incontro Spatuzza Graviano Cosa si diceva E dove Dell'Utri Alloggiava All'ineprese Abbiamo il paese Nelle mani Ma chi l'ha detto Spatuzza In via Veneto In quel famoso incontro Lo disse Graviano Spatuzza Comunque Ancora Noi dobbiamo credere Le faccio la seconda domanda Che avevo promesso A una coincidenza Anche Sul legame Che lei Fece Nell'intervista A Massimo Giletti Tra L'arresto Consegna Di Matteo Messina Denaro Con Il Dibattito Eminente Sulla decisione Sull'ergastolo stativo Prego Risposta Maiano E' una coincidenza No Ci vuole prendere Succedono le coincidenze Mi sta dicendo Lei ha detto Non bisogna giocare Con certe cose Appunto Non giochi Non bisogna giocare Guardi Gomez Come se la ride Benvenuto Direttore del Fatto Quotidiano Saluto Sandra Murri Una delle giornaliste Più preparate Sulla storia della mafia Non esageriamo Come ti Gomez rideva E anche io rido Ecco perché Perché A volte si ride Dicami perché Sandra Ma perché è evidente Che la ragione Di quell'incontro Stia nel fatto Che lei è andato Da Paolo Berlusconi A riferire Quello che già I Graviano Avevano detto A Berlusconi Ovvio Tant'è Che Paolo Berlusconi Ascoltato Dalla procura Di Firenze Dice È venuto a darmi Dei messaggi Intimidatori A dirmi delle cose brutte Sul mio fratello Quindi cercare un lavoro Non è una cosa brutta Anzi in genere Lui se ne va Eh ma Paolo Berlusconi La smentisce Non dice questo Dice il contrario Quindi Se avesse chiesto Un posto di lavoro Avrebbe usato Le parole Gentili Avrebbe detto Ma è venuto Faremo il possibile Ritroveremo Questa mi è nuova Questa la sto apprendendo Adesso Basta leggere oggi C'è sul giornale La sua smentita Raccontando Noi non abbiamo informatori Ha portato anche come Se non sbaglio Ha portato anche come testimoni Due agenti di polizia Che mi hanno preso i documenti E tutto Quindi Lui stava pranzando Al bar Lì Nella Non ne ho presente Lo dica dove era Vicino a un bar A Milano Era nella sua sede Del giornale Perfetto Era l'orario di pranzo Lui era andato a pranzare Io Ho detto No non disturbatelo Che Gli ho dato i documenti Hanno registrato Va bene Riferiamo Escono Mi dicono Ha detto il signor Berlusconi Che Paolo Ricordiamo Paolo Che appena finisce La fa chiamare Perché lei si chiama Bagliardo Altrimenti ad un altro Gli avrebbe detto Il signor Berlusconi Non ha tempo Ma era sotto scorta Suo fratello Presidente del Consiglio Se ci vado io Mi fa dire Bagliardo nega Di aver detto Delle cose minacciose Assolutamente Mai dette cose minacciose Ma ha avuto il contatto Con Paolo Siamo stati in ufficio Da soli Ah Sì 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 Ah quindi Sono saliti È salito lei Siamo stati Una buona mezz'ora Da soli Ma mai avuto Minacci da me Solo per chiedere Il vostro lavoro Avrete avuto Altri motivi Di conversazione Doveva valutare Il curriculum Sì sì Vabbè Paolo Gomez Gomez E Minzolini Gomez È tornato anche Augusto Minzolini Andiamo su Gomez Prego E poi sentiamo Minzolini Mezz'ora Mezz'ora In colloquio Baiardo Paolo Berlusconi Avrei voluto avere Una micro telecamera Per capire Se davvero È durato mezz'ora Perché Lo sta dicendo In questo momento Salvatore Baiardo Noi siamo a disposizione Di Paolo Berlusconi Se vuole intervenire Dire la sua Poi c'è anche Minzolini Magari lui ha rapporti Più diretti Con Berlusconi Prego Gomez Stando a quello Che abbiamo letto Su Repubbliche oggi Il pezzo di Lirio Abate La dichiarazione Di uno dei due poliziotti Siamo di fronte A qualcosa Che è apparentemente Molto simile A un ricatto Non dinunciato Peraltro A Paolo Berlusconi Stando a quello Che ha detto A uno dei due poliziotti Al poliziotto Dobbiamo credere Ha detto Che questo signore Era venuto a parlare Paolo Berlusconi Sapeva Chi era Baiardo Conosceva Conosceva I suoi rapporti Con i Graviano Sapeva Quello che era successo Nel processo Dell'Utri Sapeva Quello che succedeva In altri processi Io immagino Che sia rimasto Più stosso Sorpreso Per usare Un eufemismo La domanda è Perché Perché i due Berlusconi Non ci raccontano Come stanno le cose Perché Marcello Dell'Utri Almeno lo ha fatto Nel senso Che dichiarandosi Innocente Dopo aver fatto Il carcere Si fa Intervistare Dal foglio E racconta Delle cose Che erano state Negate da anni Rispetto al vecchio Vittorio Mangono Storie del 74 Dice effettivamente L'avevamo in casa Per proteggerci Dai sequestri Di persona Durante tutto il processo Questo veniva negato Il cancello Il cancello Dell'Utri Aggiunge Questa storiella Significativa E dice Berlusconi raccontava Sempre ai suoi amici Che a un certo punto C'era un posto Dove facevano il tiro Al piattello Vicino ad Arcore Dove è Villa San Martino Dove viveva E un giorno Com'è come non è Questo posto Brucia E E Vangono A racconta Dell'Utri Dice Così non disturbano più Ride Non disturbano più Il proprietario Insomma Ci sono tante cose Che dopo tanti anni Probabilmente Non sono reatto Berlusconi È stato assolto Sempre È stato considerato Anzi in parte Vittima Della mafia E lui stesso Ha detto di essere Stato vittima Della mafia Le sentenze Dicono Ma l'ha detto Ancherina In carcere Che pagava 250 milioni Di lire All'anno A Cosa Nostra E addirittura Abbiamo trovato Il libro mastro Di San Lorenzo Un documento scritto In cui c'era scritto 5 milioni Canale 5 Regalo Perché i soldi Venivano divisi Va bene Questo è il passato Per onore Che bisogna dire Alla storia Berlusconi Come tanti imprenditori Gli è capitato Tutto questo Sarebbe bello Che lo raccontasse A meno che davvero Le dichiarazioni di Bagliato Non gli facciano paura Che ci siano delle cose Che non lo dipengono Come vittima E questo Io non posso saperlo Bagliardo E poi Augusto Minzolini Bagliardo 30 minuti Lei sta dicendo Che comunque è stato 30 minuti Ricevuto da Paolo Berlusconi Non è normale L'ingresso e l'uscita Penso che non sia normale Che lavoro le ha proposto? Io gli ho detto Qualsiasi lavoro Ma lui 30 minuti Uno fa una proposta Magari No? Abbiamo parlato Un po' del più e del meno Così Cosa facevo Cosa ho sempre fatto Lui Per 30 minuti Per 30 minuti Stavo al giornale Ce la raccontò Perché Paolo Berlusconi Facendo delle costruzioni teoriche Vi dicendo Cose dette a mezza bocca Che sono tra la calunnia O altro Costellati I discorsi Buttati lì Giustamente Si parla di poker Ma mi sembra un poker Pieno di blef E con poca sostanza Ma soprattutto Si punta A dire Ad accostare Due cose Che poi è il beccanismo Della calunnia Un nome a un altro Scusi Io penso Che da questo punto di vista Per temi del genere Argomenti del genere Bisognerebbe essere Un po' più attenti Bisognerebbe Non so Prendere Che ti posso dire Esempio dagli americani Gli americani Se c'è un pentito Mi sembra che non si definisca Un pentito Ma chiunque dichiara Va lì Dice tutto quello che sa E poi Successivamente Non può Tornare Diciamo sugli stessi argomenti Perché altrimenti Tu crei un meccanismo Perverso In cui dai Dai a questa persona Un potere enorme Cioè voi state guardando Lì e state guardando Se per caso alza il sopracciglio Se fa il sorrisetto Tu capisci che Questa cosa qui Rispetto a un meccanismo Di indagine Quello che dice Quello che dice Minzolini Fammi finire È corretto Non è che uno parla Minzolini ha ragione Hai detto Dice ad Ingroia Lei non sa Di fatto Investigare I carabinieri Ma a me mi sembra Paradossale Per non dire assurdo Diciamoci la verità Cioè queste cose qui E lo insegna Falcone Vengono fatte Con una certa Attenzione Eh Prego Prima di Baiardo Gomez al volo E poi Baiardo Allora il punto è Che il signor Baiardo Non è un pentito Di mafia È un signore Che ha fatto il carcere Non si capisce cos'è però Non ha deciso di non collaborare Con la giustizia Ha deciso di fare L'informatore E nessuno Gli ha sparato Quindi le cose Che raccontava Evidentemente Non hanno fatto Dispiacere Ai graviano Che stavano in carcere A Cosa Notra Perché lui Ha parlato con Messina E ha raccontato Un sacco di cose E oggi è Una persona Che noi Ha ragione Minzolini Dobbiamo considerare In qualche modo Ancora Se non organica Ma vicino All'organizzazione mafiosa E le organizzazioni mafiose Vivono di ricatti Detto questo Sarebbe interessante Sapere Cosa è avvenuto E perché è stato ricevuto Per mezz'ora Perché questo è un fatto storico Vero Ma scusate Adesso Posso rispondere Al dottor Minzolini Come dice lei Calunni Questo Il Baiardo ha detto Beh Baiardo è 12 anni Che le dice Ma è possibile Che anche Ghedini Buonanima O altri L'ho detto anche L'avvocato di Berlusconi Non si sono mai Degnati di fare Mezza querela Posso capire Ripeto ancora Sarò ripetitivo Al signor Graviano Perché è un signor Graviano Ma al Baiardo Ma perché Non l'hanno mai querelato In 12 anni Me lo spieghi Direttore Ma lei cosa ha detto Scusi Ah no Ma lei Faccia un discorso Faccia un'accusa precisa Io quello che ho detto L'ho detto Alla procura Direttamente Sì però Non ho bisogno di dire A Mizzolini Visto che lei sta parlando qui Sta parlando Sta facendo una reposizione Davanti a una procura La faccia No perché voi scrivete Quello che Scrivete nero Cosa vuol dire Lui sa perché Lui lo sa perché Giocare No perché così Non ne usciamo mai Perché con ragione Lei viene qui Mi apre una parentesi gigantesca Dizendo Sono stato mezz'ora Con Paolo Berlusconi Ma nessuno può credere Che lei abbia parlato Di fare il giardiniere Oppure il gelataio Ad Arcore Perché nessuno Lo può credere Allora forse anche lei O chi le ha detto Di dire questa cosa Non le ha detto Di dire tutto Però manda un messaggio Dicendo io sono andato È stato mezz'ora Chi vuol capire Capisce E su questo Mizzolini dice Non è che uno Viene a rate A dire delle cose O si va fino in fondo Oppure è complesso Non ci dice cosa ha parlato No no Voglio sentire Mizzolini Però scusa Posso Sì Scusa Però Mizzolini dice Parla di cose generiche Qui stiamo discutendo Di un fatto preciso Che lui ha raccontato Alla procura Che è uscito sui giornali Di un incontro Che lui ha avuto Con Paolo Berlusconi Che è durato mezz'ora Questa è la notizia E questo è il fatto Allora stiamo qui Cercando Ma non è la notizia Scusami Io posso incontrare Chi voglio Ma scusami Ma io devo sapere Che cosa dice Cioè nel senso Non puoi dire l'incontro Perché l'incontro Può essere la qualunque No ascoltami Ma questo ha un senso Perché lui lo ha detto Alla procura Quindi aveva un significato Altrimenti la procura Non l'avrebbe ascoltato Allora cosa Allora voglio sapere Ce lo dica Ecco era questo Perché altrimenti Se uno non lo dice Non può essere neanche Quei relato Pizzolini Non mi faccia arrabbiare Voi le procure Le avete sempre avute Che vi hanno passato tutto Ecco Vi hanno sempre passato tutto Adesso perché avete trovato Una procura seria Seria Quella di Firenze Quella di Firenze Posso definire una persona Molto ma molto seria Questo lo sappiamo Perché da lì Non è uscito nulla A nessun giornalista E questo a voi spiace Perché non avete Chi vi passa i fogliettini Ma guardi No Ma guardi A me non piace Proprio questo modo Capisci Cioè io sono sempre stato uno Che questo modo di fare Questa narrazione Che poi diventano leggende Non mi faccia parlare Quali sono le prove E quelle non sono Ma hanno sempre dato fastidio Per non dire una cosa meglio Schifo A lei Alla procura di Firenze A verbale Ha detto la ragione vera Per cui è andato Da Paolo Berlusconi O ha detto Che è andato a cercare lavoro Ecco Io ho detto solo Che l'ho incontrato Che sono andato Però non ha detto Però sai Adesso ho bagliato Mi metto nel palo Lei l'ha incontrato Ed è anomalo Effettivamente Però L'ha incontrato Se non dice il contenuto Io l'ho detto Siamo sempre a quei messaggi Che poi Così È la prima volta Che lo vedeva o no Sì O l'aveva già incontrato In passato No no È la prima volta Dottore Ingroia Che cosa le sembra Ma è come al solito È la stessa Identica tecnica Di Giuseppe Graviano Mi spiace Doverglielo ricordare Cioè Perché Giuseppe Graviano Ha usato La stessa tecnica Dire e non dire Alludere Fare capire La procura Ci ha le prove Nei cassetti No anche loro Abbiamo dato Abbiamo dato E so Però mio nonno Diciamo Tanti anni fa Quindi quando ha già I fatti Sarebbero presi Lui ha parlato anche Di un contratto I soldi Con Berlusconi Eccetera Ma perché non la tira fuori Il punto è questo Lei ora Vi prego Se posso Scusa Lasciamo finire No no scusa Scusa Ora lei Si è esposto Quando ha fatto La scelta Di rilasciare Quelle interviste Giretti Non è che ora Dopo che ha lanciato Il sasso Può ritirare La mano Deve andare Sino in fondo Vuole andare Sino in fondo Come è giusto Che sia Ai magistrati Racconti Tutto ai magistrati Ma racconti Tutto Perché altrimenti Nel suo interesse Lei risulta Totalmente Squalificato Si rende conto Che altrimenti Lo hanno fatto Per dodici anni E mi devo scordare Che lei O è inattendibile O è un ricattatore Se invece Vuole dimostrare Di essere attendibile È il momento Di raccontare La cosa Ma c'è una cosa Ricattatore Nei confronti di chi Me lo spieghi Ingroia Quando lei Ricominciamo Sono stato Mezz'ora Con Paolo Berlusconi Leggiamo Quello che leggo Sui giornali I poliziotti Di scorta Di Paolo Berlusconi Dicono Che Paolo Berlusconi Ha detto loro Che lei Aveva tenuto Un atteggiamento Minaccioso Aveva portato Un messaggio Minaccioso E dico Allora Come si fa A non pensare Da parte di qualcuno Che lei sia un ricattatore No Aggiungiamo Che va Dal dottor Tescaroli E dice oggi Che ha parlato Di questo incontro Non ci rivela Di più Però è un altro segnale Perché va Da un giudice Non mi pare che abbia detto Di più Però Di più no Di più no Però Io rigiro Il discorso E mi chiedo Come mai Allora Se è vero Quello che abbiamo ascoltato Nessuna procura Lo indaga Per favoreggiamento In qualità di portavoce In qualità Perché Io No domani La domanda che mi faccio Che faccio a Peter Che faccio a Ecole La cosa più probabile Che nessuna procura Lo indaga Perché le procure Stanno indagando Probabilmente Su di lui Probabilmente Per cercare Per cercare Di capire Magari non lo sa Magari Non è detto Che lo sa Non attendibile Posso Ma sto fosso foglietto Graviano Perché non lo danno Allora vogliamo Cioè vogliamo però Vorrei chiedere uno sforzo Voi siete molto preparati Su tutto Chi ci ascolta Quando parate di un foglietto Deve essere raccontato Chi ci ascolta Vogliamo spiegare Di che foglietto Graviano Durante il processo Di cui si parlava prima A Reggio Calabria Come? Un dragheta stragista Ha parlato Di un foglietto Che lui ha al sicuro Quindi che fuori Signor Graviano Avrebbe al sicuro Un foglietto Tenuto in cassaforte O affidato a qualcuno Ovviamente E che cosa ci sarebbe Su questo foglio? Un patto scritto Un contratto Che dovevano A febbraio Definire Con un Con? Con un atto notarile Con il presidente Berlusconi? Sì Però come diceva Ghedini Queste cose Non sono mai state rimostrate Cioè Ghedini Ha processo Ha sempre riso Su sta storia Perché alla fine Come disse Minzolini Cioè uno butta il sasso Così Però poi alla fine In concreto Questo foglio Non si è mai visto Cioè E così le difese Hanno giù buon gioco Baiardo Si ricorda che Quando eravamo sul mare Minzolini ha bisogno La copia di questo Contratto del Graviano Gliela facciamo recapitare Gliela facciamo recapitare? Ma lei è veramente pazzo No ma scusi Ma scusi Guardi Io guardi Insomma a me non piace Affatto Lei come si comporta E soprattutto Come si affrontano Delle questioni così Importanti Minzolini Vada a prendere un'email mia Le dico con molta franchezza Mandata a lei Di 12 anni fa Lei parli Perché non è che può dire Cioè non può continuare così Dica tutto quello sa Quello che sa Come succede Negli Stati Uniti Lei non avrebbe sicuramente Guardi cittadinanza Dice tutto quello che sa Dall'inizio alla fine E poi si blocca Perché questo si fa Se invece lei deve continuare A fare così A dire Dico non so E le dico Per me è calunnia Perché è calunnia Lei continua soltanto A fare il suo gioco E purtroppo c'è qualcuno Che le viene dietro Mi dispiace Gomez Chi è sto qualcuno? Ma io credo Che sarebbe utile Che venisse denunciato Da Paolo Berlusconi E da Silvio Berlusconi Che non l'hanno fino adesso fatto Per calunnia Avremo quindi un'indagine E forse riusciremo a capire qualcosa Da lì in mezzo È un po' sorprendente Che non l'abbiano fatto Ma scusami Se poi hai notato Non è che ha detto qualcosa di più Io sono d'accordo con te Graviano non è un pentito È un signore che sta giocando un gioco Che noi non riusciamo a capire La cosa probabile Che stia tentando un ricatto Sarebbe stato meglio Che questo ricatto fosse denunciato Scusate Baiardo Scusi Lei ha ragione Missouri Lei continua a non dire Nulla di Non aggiunge nulla di più Cioè Se lei vada Un magistrato E dice Io ho incontrato Paolo Berlusconi Sono stato 30 minuti E gli ho raccontato Uno Due Tre Quattro Cinque cose Allora ha un senso Ma lei ci dice Che ho solo raccontato Che l'ho incontrato Ma allora può incontrare chiunque Può anche incontrare Minzolini Che ne sappiamo Cosa vi siete detti Cioè lì su quello C'è solo Ma io non l'incontrerei No ho capito Però Ma riferimento all'email Di 12 anni fa Che email di 12 anni fa Che ho spedito Al dottor Minzolini Ce l'ho ancora E cosa diceva Cosa ce l'ha scritto Ma 12 anni fa 12 anni fa Lui lo sa Ma allora Io non è che posso Ma ti però Che ce l'ha scritto In questa mail Cosa ce l'ha scritto Quella scritta lei Ma fai ancora Su basta La scritta lei Lo saprà Se l'ha scritta lei Ce l'ha ancora Adesso non mi ricordo Ma io le tengo tutte No non si ricorda Va bene Ma che cosa dice Posso Perché ride Minzolini È una stupidata questa Posso Ma mi fai ridere Scusami Scusami Le do pure del tu Perché mi viene da ridere Ma che cosa Ma che dici Ma di cosa Cioè non è che può pensare Che Baiardo Lei non è che può pensare Che Minzolini Si ricordi Pensi un direttore Centinaia Migliaia di lei 12 anni 12 anni fa Facciamo due conti No no ma poi guarda 12 anni fa Scusami Scusami Chiletti Poi che cosa ci sarebbe stato scritto Perché altrimenti La parola la faccio io È certo Ma ce l'ha queste mail Ce l'ho Gliela rispedisco Gliela rispedisco Del 2011 Quindi 12 anni fa Lei ha fatto lo stesso anno Poco prima e poco dopo La mail a Minzolini Stiamo scoprendo Quindi aveva lo stesso oggetto Lo stesso motivo O chiedeva al lavoro Anche a Minzolini Io gli rimando l'e-mail Poi vedrà Minzolini Allora le posso chiedere una risposta Questa sera Lei l'altra volta Quando mi ha detto Io l'ho chiesto Chi è che la manda Perché parla E le ho fatto il nome Dei Guttadauro Lei è rimasto un po' così Io le faccio rivedere Questa famiglia Che è una famiglia storica Molto importante Che ha come punto di riferimento Giuseppe Guttadauro Il dottore Perché è stato chirurgo Arrestato e quant'altro Due fratelli Filippo Guttadauro Che ha sposato E Carlo Carlo Con i pentiti Avevano cercato di tirarlo in mezzo Però ne è uscito Fa l'imprenditore Invece è Filippo Guttadauro A essere al centro delle attenzioni Oggi è all'ergastolo bianco A Tolmezzo Perché è importante Filippo? Perché è sposato Con Rosalia Messina Denaro Sorella di Matteo Messina Denaro Ha due figli Francesco Guttadauro Che è uno dei nipoti prediletti Anche lui Sotto la lente di ingrandimento Di chi indaga E Lorenza Guttadauro Che è l'avvocato Oggi Di Matteo Messina Denaro Pur essendo parente Quindi No Baiardo Supera il famoso 41 bis Avvocato e parente Quindi ha una bella strategia Allora Lei li conosce Guttadauro? No Così di Sui giornali In televisione Non ho mai avuto Il piacere di conoscere Giletti Non li ho mai conosciuti Io ho frequentato poco Palermo Lei ha a casa Brancaccio anche? Chi? Lei Lei ha Brancaccio Mai vissuto Recentemente Era Brancaccio Adesso non confondiamo cose Che a me spiacciono Perché lei Gomez Sa pararsi Io ho appena ricoverato Il papà a Brancaccio Perciò non facciamo queste Io a Brancaccio Non ho mai vissuto I miei genitori Dall'88 Hanno una villa Travia Che sa benissimo Che è vicino Termini Merese Confermo Paese prima Giusto? Confermo Io non ho mai vissuto Né a Palermo Né tantomeno a Brancaccio A Brancaccio Adesso mi fa Una cosa di dispiacere Per quello Sto andando a Brancaccio Solo per questioni Lei sa chi sono però È una famiglia potente Ma le ho sentite adesso In questi giorni Ma vabbè Allora vabbè Adesso Ma quando trascorreva Le giornate con Con Graviano Durante la latitanza Di che parlavate? Sì ma io le trascorrevo al nord Eh o al nord o al sud Non è che le trascorrevo a Brancaccio Questa è una curiosità che ho sempre avuto Sì Di che cosa Quali erano gli argomenti? Gli argomenti che Non penso le stragi Perché non lo aveva raccontato No Che lui voleva cambiare vita Che voleva trasferirsi definitivamente al nord O in Svizzera Eh ma la vita si cambia collaborando Lei non gliel'ha mai detto Collabora con la giustizia e cambi vita E lei lavora per i servizi segreti Come qualcuno scrive È un uomo dei servizi in qualche modo Perché hanno scritto anche questo di lei Devo mettermi a ridere No Oggi stasera si metto tutto a ridere Quindi può anche farlo lei Ma la domanda è giusta E il mezzolino rido anch'io per una cosa così Allora Ingroida la trattativa continua Ma è cambiato il tavolo Ha detto lei Sì È l'interpretazione più plausibile Ma oggi Io speravo che veramente Ci fossero le nuove rivelazioni In Bagliardo Invece lo vedo un po' più trattenuto Rispetto alle precedenti interviste Che ha fatto con lei Ad ogni modo È quello plausibile La cosa più plausibile È che E questa famosa trattativa È una trattativa che si è svolta All'interno di Cosa Nostra Da parte di pezzi di Cosa Nostra Che avevano determinate Garanzie politiche Che ci sarebbe stato Degli possibili allentamenti Il suo ergastolo stativo è 41 bis E che aveva bisogno Di un agnello sacrificale Chiamiamolo agnello Tutt'altro che innocente Essendo Per l'intervista Abbiamo visto E per tutte le stragi Il sangue Di cui si è lordato le mani Tutt'altro che agnello Ma Per Cosa Nostra Era l'uomo da sacrificare Ed è Matteo Messina Danaro Essendo l'ultimo Degli stragisti In modo tale Come ho sentito In varie cose In varie interventi Anche strumentalizzando La vicenda Cospito Si mette in campo Una contestazione Per rivedere 41 bis in toto Non è più caso Cospito È caso 41 bis Guarda caso Tutto si accelera Nel momento in cui Tanto la mafia È stata sconfitta Perché è stato arrestato Mattia Messina Danaro Bene Questa è la strategia Questa è la strategia Risposta al volo Sì Risposta al volo È vero o è vero Ma lei lo sa meglio di me Che nasce Dalla sua intervista Questo 41 bis Doveva essere una cosa Temporanea Rinnovata Ogni due anni Ma allora io dico Ma sta gente Dove essere temporanea Ma lo dice a lei Ma ammazzatela sta gente È stata fatta temporaneamente Fate come in America La sedia elettrica È meglio Almeno sanno Fatemi vedere Tra due anni Mi conferma che lei È portatore di questo Di questo progetto Ma no Ma non è che È portatore di questo progetto Lo dica Mi faccio sentire Saliano Baiardo Ma non è solo Saliano Ascolteiamo Perché in carcere In questo momento Ci sono pochi Non so se hai visto Recentemente Questa trasmissione Di Giletti Con questo pentito Cosa ne pensi Allora sicuramente lui Gli è arrivato all'orecchio La cosa che Denaro Fosse malato E probabilmente Ci ha fatto lui Una riflessione Cioè Ci ha fatto una riflessione Sua Cioè Una persona malata Stanno arrivando Le informazioni Probabilmente Chi se lo vende Ecco Io più che I meccanismi di trattativa Che a oggi Noi non abbiamo Vere prove Su questo Ci sono logiche Di dialettica Cioè Di parti Che si parlano E lui Lì lascia Insinuare qualcosa Di cui si è parlato poco Ma secondo me Lui lascia insinuare Chi se l'è venduto Verrà ripagato Se per esempio Chi si è venduto Infatti lui dice Proprio qualcuno Potrebbe essere liberato In sordina In sordina In sordina significa Magari di improvviso Mica ora Tra tre anni Arriva la grazia Da Mattarella No Ancora più invisibile Cioè Tu hai Una diagnosi Che hai Che ne so Un inizio di leucemia Chiaro Vai in ospedale Inizia ad andare in ospedale Quindi i media Non hanno fastidio E dall'ospedale Casa Per esempio Le persone che hanno partecipato A quest'arresto Non sappiamo chi sono Vedremo Ma potrebbero Lui sta insinuando questo Ora non so se lo sa O lo immagina Perché gli è arrivato l'orecchio Come vede Tutti parlano di lei Però lei questa sera Ha detto Vengo e dico delle cose In realtà non ha detto nulla Ho detto tanto La miglior parola È quella che non si dice Per chi la vuole capire Vabbè Allora anche su TikTok Potevano dire Lei ha detto Farò delle rivelazioni Tutti ad ascoltare TikTok Ti posso dire La verità Prego Gomez Parlando di un signore Che sta inquinando i pozzi È un signore Che mischia cose vere E cose false L'operazione che sta facendo Bagliardo in televisione È vergognosa E probabilmente Quello che sta dicendo Serve solamente Per mettere in dubbio Alcune certezze Che sono state raggiunte Durante le indagini Bagliardo Non sono nato ieri Peter Gomez Vergognoso Lei non è un pentito Peter Gomez Lei sta facendo Il massimo Anche se non lo è Lancia messaggi E probabilmente Ricazze Dice delle cose false E sa il perché è vergognoso E sa il perché è vergognoso L'asseggiamento Bagliardo È vergognoso No Lei sa perché è vergognoso Lei è vergognoso Peter Gomez Già a partire da quando è venuto a pranzo A casa mia Adesso Scrito tutto Adesso scusi Stasera dice Stasera dice Bagliardo Perché in questo caso Potrebbe Per essere È vergognoso È vergognoso Bagliardo Il suo attenzamento Bagliardo Però scusi Allora Siamo anche onesti Se una persona dice Torno in televisione E dico delle cose Queste cose le deve dire Se lei viene qui E dice a Menzolini Delle cose Che poi non hanno dei riscontri Cioè Noi sappiamo solo Che l'ha incontrato È un dato di fatto Però è un messaggio Di nuovo Che lei usa Uso la televisione Per dare i messaggi Allora Lei non mi invita più Che Giletti Che gli altri possono farle Io mando La stessa email Che ho mandato E c'è la data Che la mando a lui E poi invita Non è che può chiedere A Menzolini 12 anni fa Si ha ricevuto un email Ma ci dica cosa c'è Cosa c'è scritto Lo saprà anche cosa c'è scritto Ma che dici Ma mai ha scritto È un atteggiamento mafioso Cioè Cos'è Cos'è Ripeti Gomez È un atteggiamento Che lei ha acquisito Perché lei è parente Del greco Da una parte E dall'altra È parente del lupo acquisito Ha frequentato questa gente E continua a comportarsi Con la mentalità Di questa gente È evidente Lei non è un collaboratore Di giustizia Lei è Una persona Che è nata E continua a muoversi così Lei è stato uno dei primi A darmi del pentito Si vergogni Gomez Si deve vergognare Un attimo Per cortesia Allora Bayardo Usiamo i toni giusti Vorrei dire Vorrei dire a Peter Gomez Che ci conosciamo da tanto E so che È conoscitore della materia Che è chiaro Che noi non abbiamo davanti Un collaboratore di giustizia Questo non ci piove E che non ha nessuna intenzione Di diventare collaboratore di giustizia Tanto che Avendo Essendo dentro Una mentalità Di tipo mafioso Dice che i pentiti Gli fanno schifo Insomma Sostanzialmente I pentiti Per me Sa cosa sono I pentiti Sono quelli Che in libertà Si presentano in caccia Ho sentito la sua intervista Ma quali pentiti Quelli che sono liberi I collaboratori di giustizia Sono anche quelli Che si fanno un calcolo Dipende Se dicono la verità Il tema è Se dicono la verità O non dicono la verità Ma comunque Il tema è un altro Però scusate Posso finire Vengo interrotto da tutti Abbiamo mai avuto in Italia In Italia Un pentito Si alza al mattino Dice Ma cosa ho fatto fino ad oggi Mi dice che i pentiti Sono pentiti dopo Quando vengono arrestati Ma non ce n'è uno Che si pente prima La domanda è veloce La questione però è Non dimentichiamo Il punto di partenza E lo dico anche a Peter Gomez Il punto di partenza Che non si può nascondere E che Bagliardo In quell'intervista Ha detto delle cose Dimostrando di essere A conoscenza Di cose interne Alla mafia Le ha dette In un contesto Che faceva intendere E ci sono degli elementi Che fanno ritenere Convincente Questa ricostruzione Dentro una trattativa Non si sa Fra chi con chi Perché obiettivamente Non è ancora chiaro Anche se Ognuno C'ha le sue Teorie Io c'ho le mie E allora questo Come giustamente Diceva Nino di mattino L'intervista Avete mandato in onda Merita di essere Indagato Non è da buttare Due secondi Due secondi Due secondi Due secondi Due secondi Due secondi Non parole al vento Non parole al vento Mi riferisco ai pentiti Prego Allora Prendiamone uno Uno di pentito Che a voi ha fatto comodo Tranchina Fabio Pentito Che tutti avete detto Se non siete fatti indagini Procesi E sentenze di conda Che era attendibile Su tutto Lei utilizza sempre Quelli che Gli stessi Che non piacciono Giuseppe Graviano Comunque Dice Tutto verbale Si pente Dice Il Baiardo Ha comprato Una gelateria Con tanti soldi Dati Dai Graviano Primo Baiardo ha comprato La gelateria La mamma del Baiardo Nel 1976 A Cambiali Pagate Non avevo bisogno I soldi Dai Graviano Ma lei è stato processato Per questo No Quindi evidentemente La magistratura No ma aspetta Sto arrivando ad alto Sto arrivando ad alto Però non andiamo Su cose personali Allora No Cose di pentiti Ho capito Che i pentiti Siamo stati usati Ma se arriva La villa in Sardegna Sono stati usati Ma se arriva La villa in Sardegna Io le volevo Dire una cosa Io quando lei Ha raccontato A Massimo Giletti Che avrebbero arrestato Matteo Messina Danaro Ho pensato questo Dal momento Partendo dal presupposto Che per tutti Lei parla per bocca Dei Graviano E che I Graviano Avessero voluto Far Intendere Il messaggio era Noi sappiamo Che è malato E che verrà arrestato Ci siamo? Cioè Che avessero rivendicato Il potere Del sapere Mentre magari Era stato deciso Da altri È così? Non posso Non so risponderle Da Bagarella Per esempio Da qualcuno Che No? Si sono sentiti Graviano Superati dal carcere Questo credo Che voglia dire lei Ma non so rispondere Perché non sa rispondere Sai da chi Le è provenuta Questa notizia No? Non mi dica De no Perché se no Allora andiamo a casa Non dai Graviano Non dai Graviano Certo Stanno in carcere Ma comunque Da qualcuno Che come dire Riferibili no? Biletti? Sì Un attimo Devo andare in pubblicità Augusto Devo andare in pubblicità Guarda è una cosa Promo sintetica Posso? Devo andare in pubblicità Guarda l'unica cosa Da questa situazione Surreale L'unica cosa che ho capito Che forse è proprio Necessario mantenerlo Il 41 bis È la dimostrazione Questa sera Andiamo in pubblicità Dopo l'audio È la persona Che ha vissuto Un lunghissimo rapporto Con Matteo Messina Denaro Che ci darà Documenti Che faranno capire Il personaggio Andando oltre Quella che è la nostra Immaginazione Dopo la pubblicità Allora Questa donna Tra pochi istanti Racconterà E ci farà anche Ascoltare Alcuni audio Alcuni documenti Scritti anche Con l'uomo Che lei pensava Si chiamasse In un certo modo Che fosse una persona normale Dietro a quel nome Si nascondeva Matteo Messina Denaro Sono degli audio Che faranno Molto discutere E che raccontano E che raccontano L'altro Matteo Messina Denaro Io non mi stanco Di ripeterlo Attenzione Che quando parliamo Di Matteo Messina Denaro Siamo sull'abisso Della morte Perché noi Non possiamo Dimenticare Pur nel rispetto Del momento Che sta vivendo Della dramma Di un cancro Quello che ha fatto Durante la sua vita Quello che le sue decisioni Hanno portato Morte Stragi Addirittura La decisione Di uccidere Don Pino Puglisi Ecco questo Preso da Graviano Quindi da personaggi Che stanno lì Con i quali Lui ha sempre collaborato Anche quel bambino Che venne Sciolto nell'acido Credo che questo Non vada dimenticato C'era Minzolini Credo Augusto Che sta per iniziare L'ho dovuto interrompere Prego Augusto No no Ma guarda Sono stato Ti avevo detto Che sarei stato sintetico Dico solamente Che Tenendo conto Diciamo ecco Questa discussione Tu ti accorgi Che ci sono Dei meccanismi Perversi ancora Per cui Secondo me Strumenti Come il 41 bis La discussione di oggi Questo modo Di parlare o non parlare Di mandare massaggi Ti dimostra Che invece Sono necessari Ti dimostra Cioè nel senso Mi sembra Abbastanza chiaro Evidente Uno non può Diciamo continuare A gestire Ma io ti dico francamente Poi non lo so Anche tu Cioè lo invidi in tv E va bene Ma è una decisione Poi oltre tutto L'informazione Prima di tutto E per qualunque cosa Però è davvero una cosa Che Certe volte Uno Resta perplesso Immagine Sul serio uno Che deve difendersi Da una calugna Del genere Una cosa detta Non detta Che non puoi neanche Di fatto Querelare Perché che quereli L'incontro Mi porrei Diciamo Dalla parte Di chi Si sente Di fatto oggetto Quella la minaccia Se l'ho minacciato Quella la minaccia Io non so neanche come definirli Diggielo Glielo dica Giletti Ma no Io non sto dicendo Io non sto dicendo Quello che dice E' quello che dice lei E' quello che dice lei E io rispondo a lei Io non ho capito Adesso Lei mi segue Lei mi segue Lei ha detto Che io Lei mi segue Io Lei ha detto Che io ho minacciato Paolo Berlusconi E mi denunci Perché io l'ho minacciato Io questo non l'ho detto Io non ho detto questo Io non ho detto questo Scusate E' saltato fuori questo A me non mi ha sentito Perché io non so quello Che lei ha detto Non ne so nulla Io so solo Che lei sta lì E continua a dire Mezze frasi Di cui non si capisce Neanche il senso Ed è chiaro Che da questo punto di vista Lei sta avvelenando i pozzi Lei ha detto Che io ho minacciato Paolo Berlusconi Che è andato a Firenze Allora Lei dico Lei non avrebbe cittadinanza Di fronte diciamo A un inquirente americano Perché nel senso Uno che arriva lì E dice mezze cose Non può essere Non dovrebbe neanche essere ascoltato Sì ma qua siamo in Italia Minzolini Ve lo dico con molta franchezza Ecco anche io Qua siamo in Italia E guardi non so neanche più Che dirle Allora scusate Non c'è niente da andare avanti Sono delle riflessioni Non sono delle riflessioni Che Minzolini e Gomez Pongono con sacrosanta verità Perché io sono sempre pronto E disponibile A dare la voce Perché sai Augusto tu mi dici L'ha invitato Certo L'ho invitato Perché lui Ha raccontato Storicamente Due anni fa Delle cose Ha detto A novembre Delle cose E è tornato Perché voleva dire delle cose Lui sostiene Di aver mandato Io quando ti dico Se una persona Dice io devo dire delle cose Viene Si assume poi Ognuno la responsabilità Di quello che dice Comunque Io non è che prendo Le distanze da Baiardo Perché l'ho invitato qui O rinnego il fatto Di aver invitato Baiardo Io non posso sapere Non posso sapere Quando un ospito viene Come gestisce La dialettica In una trasmissione Tutto qua Questo è un punto Non ho la sfera di cristallo Baiardo mi dice Devo dire una cosa Io dico Bene Questa cosa la dice Voleva confrontarsi Con Ingroia Si è confrontato Peter Gomez Non è che possiamo Sapere in anticipo Quello che succede Non mi è piaciuto Baiardo L'attacco Che ha fatto a Gomez Perché vede Baiardo Uno va a casa Di una persona Di attacchi Di cosa Da persone Vicina a Cosa Nostra Li ho avuti Più di uno In vita mia E non me ne preoccupo Però Baiardo Uno va a casa Di Gomez E fa Per minacciare Giletti Io non mi avevo Per minacciare qualcuno E io non so Se questo è il caso Non è sempre necessario Parlare Io ho detto a Gomez Una cosa ben precisa Ho detto Ho fatto di peggio Anche con me Con la procura di Palermo Dicendo che noi Abbiamo insabbiato Le indagini Sull'omicidio di Agostino Che avevamo la verità Per scoprire Come è fatto quotidiano Loro hanno insabbiato Lui non ha minacciato Lui non ha minacciato Lui non lo faccia Che aveva detto Una cosa E ne hanno scritta Un'altra E ne ha scritta Un'altra Lo dice lei Gomez dice Dice l'opposto Io cosa ho fatto Dopo un articolo Però non vorrei Che dal momento Diciamo di concitazione Si perda di vista La questione Perché non è che È di secondo piano Uno Il fatto che Una persona Già condannata Questo è innegabile Già condannata Per favoreggiamento Della latitanza di Graviano Si sia presentato Nel 2011 Si sia intrattenuto Per mezz'ora Con Paolo Berlusconi Dicendo Non l'ha detto Mizzolini Ma da quello che leggiamo L'hanno detto I poliziotti Di scorta Di Paolo Berlusconi Che Paolo Berlusconi Avrebbe detto a loro Che lei aveva portato Un messaggio minaccioso Prima Però lei è libera Di non riferirlo Non minaccioso Questo messaggio Minaccioso Sostanzialmente Che aveva screditato Suo fratello Beh però È diverso Lei mi insegnerà L'avvocato Diciamo Al contenuto minaccioso Perché se Questo non Non si può portare Di screditare il fratello Io quello che replico A Peter Gome Che lui Ha scritto un articolo Un attimo Aspetti Che mi interrompetta Continua Ecco Dicevo Questo è il primo dato E il secondo dato Ancora una volta La famosa intervista Con Giletti Che anticipa La cattura Consegna Perché io ribadisco Sarà anche L'avvalentatore Di Pozzi Ma con l'arresto Mattia Messina Senza nulla Togliere ai meriti Degli investigatori Del ROS Della procura Di Palermo Eccetera O della polizia Di Stato Della polizia Di Stato Quello che sia Per anni La polizia di Stato Ha fatto un grande lavoro Che mi sorprende Sì però Ricordiamolo Però poi è scomparsa Diciamo Che ci sono state Delle anomalie Nell'arresto Di Mattia Messina De Naro Nella condotta Di Mattia Messina De Naro Io non ci credo Che Mattia Messina De Naro Solo perché era Gravemente ammalato Comincia a fare I selfie in giro E si rende Così facilmente Catturabili Non ci crederò mai E così Allora non hai letto Non ci crederò mai Vabbè puoi dire Quello che vuoi Ma io non ci crederò mai Comunque vorrei finire Bene Questi fatti Sono fatti Che meritano Di essere approfonditi A mio parere Mattia Messina De Naro Come quasi tutti Quasi Non tutti Ma molti Arresti latitanti Sono avvenuti Tramite la consegna Da parte Di altri pezzi Della mafia È successo così Contro Torrina C'è tutto il mistero Della mancata Perquisizione del Covo E ci ha scritto Nella sentenza trattativa Passata in giro Perfino quella Che ha mandato Assolto gli imputati Dice Che non venne Perquisito il Covo Per dare un segnale Di distensione A Cosa Nostra Quindi c'era Una trattativa E si è detto Anche In una sentenza Che sicuramente Non ama Quegli imputati Cioè Non condanna Quegli imputati Perché li assolve Scrivono però Che Provenzano Venne sostanzialmente Protetta La latitanza di Provenzano Perché Serviva La strategia moderata Di Provenzano Scusate C'è una donna Che sta per entrare E voglio dare la priorità Perché Ascolteremo delle cose delicate E su questo Mi viene la ragione Prego Gomez Gomez si ricorda Quando è venuto Ha fatto un articolo No 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 Per dire No no Le cose Dio una cortesia Voglio rispondere A Minzolini 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 Lei sa chi era Chioggi Chi era Nel vostro giornale Come no Chiocci Chiocci Non c'ero io Quando lavoravo Ho capito Non c'ero Quando sei stato qui Comunque adesso Ho capito Chiocci Chiocci Chi era Chi era lì al giornale Ma chi era lì al giornale Ma lei non può parlare D'una persona che non c'è Sto dicendo un'altra cosa Cosa faceva il giornale lui Scriveva Scusi Io non c'ero Quando c'era Chiocci Scusi Scusi Con me però Baiardi Parli con me Ok Siccome non c'è Chiocci Io la smentita Dell'articolo Fatto da Peter Gomez L'ho fatto fare Dal giornale Il giorno dopo E' uscita la smentita Sul giornale Il giorno dopo Di quello che ha scritto Senta Baiardo Ma che si dice Scusate Stiamo parlando Allora Sentiva di essere L'informatore di Messina In quella informativa In cui si parlava Di Berlusconi Dopodiché E' stato confermato In aula Che era lui L'informatore Perché in quel momento Aveva paura Di parlare Di altre cose Perché evidentemente Non aveva ancora L'occhio Allora Vi chiedo una cortesia Vi chiedo una cortesia Lui passa per informatore Bene Questo Ma io mi occupo Di cosa nostra Ha trent'anni Che vuole prendere pensere Allora Baiardo Ci possono essere Conflitti con le persone La serietà di Peter Gomez È storica È storica È un profondo Conoscitore della materia Lo rispetto ancora oggi Quindi va rispettato Io lo rispetto Poi potete avere avuto Una divisione Su un punto Però non si mettono In discussione Persone come Gomez Se lo lasci dire Ma mai fatto Ok Va bene Allora Le dirò di più A volte Ho bisogno Non so Perché non avevo Il numero di Marco Lillo Io ho chiamato sempre Gomez Perfetto Perché ho un rispetto Si può litigare Tra persone Però O non è vero Gomez Io ho sempre avuto rispetto Chiudiamo così Adesso vi chiedo Di essere concentrati Saluto Baiardo Saluto Ingroia E Augusto Minzolini Grazie Rimani Sanda per cortesia Anche Peter Tra poco Vedremo questa donna Allora Per lei Matteo Messina Denaro Era semplicemente Andrea E ha dialogato con lui L'ha incontrato È stata a mangiare con lui Poi ha scoperto L'improvviso Quel giorno Del 16 gennaio Che quell'uomo Che lei Ricordava Sapeva Si chiamasse Andrea Bonafede Era in realtà Matteo Messina Denaro Vi faccio Vedere Queste poche immagini Per permettere Il suo ingresso Della latitanza Di Matteo Messina Denaro Sono pochissime Guardate La foto che gli inquirenti hanno elaborato È un pochettino diversa Rispetto al sospetto odierno È possibile che anche io Lo abbia incontrato Da qualche parte Chiunque lo abbia potuto Incontrare da qualche parte Mi faceva parlare con me Ogni lunedì Con una persona così gentile Molto gentile Ma perché dovevete aspettare Una persona educata Che se ti incontra Dice buongiorno Buonasera Non ti dà nessuna conferenza Tu che cosa gli devi dire Sono venuti a ritirare L'hard disk Della videosorveglianza E quindi non rilasciamo Nessun tipo di informazione Molto probabilmente È venuto E rimasti un po' sconvolti Quando avete saputo Che era venuto qui A fare spesa Abbiamo visto le foto E abbiamo capito Che logicamente Era lui Matteo Questine dell'altro Ma suo padre È coinvolto Nella vicenda Secondo le Sì è l'hard disk Sono Vincenzo Loppino E il figlio Io a mio padre Lo credo Perché è una vita Che si spacca la schiena E se sono qui È grazie a loro È stato vicino di casa Di suo padre Matteo Messina Benaro Come ti chiami? L'ho detto L'ho detto Matteo Messina Benaro Davanti a me C'è una persona Che ha conosciuto Molto bene Matteo Messina Benaro Solo che sapeva E pensava Fosse un altro Personaggio Un'altra persona Tra qualche istante Dopo la pubblicità Ascolteremo E Veramente vedremo Anche una fotografia Molto particolare Di Matteo Messina Benaro Dopo la pubblicità La persona che è davanti a me Lo ripeto Parlerà con una voce modificata È invisibile Ma io vedo i suoi occhi Vedo anche la tensione emotiva Che sta vivendo E ne ha ben ragione Questo era l'uomo Che lei pensava Si era presentato Come Andrea Buona fede Buona fede E a lui Sì Sì Allora questa donna Vive tra Trapani e Palermo E ogni tot Doveva andare Prendere la sua macchina Accompagnata Da qualche parente C'era questo viaggio Per andare Alla Maddalena Alla clinica Dove anche Matteo Messina Benaro Che però si presentava Come signor Bonafede Si recava Perché era in cura Per lottare contro Il tumore Contro il cancro Io prima di far ascoltare Alcuni audio Che noi abbiamo trovato Perché stando poi in Sicilia Andando in Sicilia Si riescono A trovare certe strade Certe storie E sulle quali poi vorrei Il suo ascolto Le voglio chiedere Come ha reagito Quando lei Quel 16 di gennaio Scopre che l'uomo Con cui aveva avuto Un rapporto Molto profondo Sempre dialettico Di confidenze Di amicizia Era un'amicizia In un momento difficile Ecco All'improvviso Per lei Quello lì Era quest'uomo Quando esce La prima foto Dal telegiornale La sua reazione Beh Ho fatto Veramente Molto fatica A Credere Seriamente Che Quella persona Che io avevo Conosciuto Come Andrea Potesse essere Seriamente Sovrapponibile A A quel che Chiaramente I fatti Di Cronaca Sentita Tradita 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 Perché io Ho creduto Fosse Tutt'altro Che cos'era Lui per lei Fino al momento Del 16 gennaio Era una persona Con cui ha condiviso Mesi di dolore Anche Di fatiche Ma anche Forse Degli altri momenti No Altri momenti Direi di no Però Sicuramente La condivisione Di un percorso Abbastanza Pesante Faticoso Faticoso E doloroso Quando è iniziato Questo Questo Rapporto Questo incontro Quando c'è stato? Attorno alla fine Del 2021 Tra la metà E la fine Del 2021 Un anno e mezzo fa Sì E come nasce? Perché Vorrei che Magari a casa Non tutti lo sanno Quando uno vive La lotta Contro un tumore Si trova spesso A condividere Una stanza Con molte persone In attesa Di fare le cure Sì È così Anche nel suo caso Sì Lei arrivava Da fuori Palermo Sì I parenti La lasciavano lì Poi Dovevate stare soli Ognuno fa Un tipo di cura No? Sì È nata lì In quella stanza? Sì Assolutamente sì Che tipo era? Che approccio ci fu? Beh All'inizio proprio Eh? Tipo assolutamente Socievole Disponibile Eh Anche un po' Un simpaticone Ecco Per cui Durante queste attese Si creavano Dei momenti In cui Si cercava Di condividere Quella stessa Un po' Tutti insieme E quindi Insomma Una parola Tira l'altra E chiaramente Insomma Si arriva A stringere Una Iniziale Conoscenza Che poi Può anche Diventare Un'amicizia Come si era presentato Scusi Come Andrea E che cosa Le aveva detto di fare? Andrea Bonafede Andrea Bonafede Sì Le aveva detto Andava lì Perché Eh Aveva Anche lui Eh Da dover fare La chemioterapia Ma Le aveva detto La sua attività Che cosa faceva? Sì Non subito Chiaramente Ma poi Nei vari incontri Poi Ehm Si parlava Eh Di cosa fai tu Piuttosto Cosa faccio io E Eh Lui raccontava Di Ehm Avere Un'azienda Che si occupava Di Ehm Produzione Vendita Di Olio Di Olive Le aveva detto In che zona? Una sorta di imprenditore Agricolo Le aveva dato anche una zona? O? La zona sua Chiaramente Proprio quella di Castelvetrano? Beh adesso non saprei Però insomma Quell'area lì Di Trapani Precisamente Ma Sicuramente In quel lato della Sicilia? Sì E che cosa l'aveva colpito di lui? Il suo modo di muoversi Di vestirsi Di ragionare Di apparire No direi Che l'abbiamo visto Il giorno dell'arresto Aveva questo montonce Un gioiello Aveva un orologio molto costoso Cioè Era appariscente No? Era sicuramente una persona Che vestiva molto bene Che curava la sua immagine Una immagine Abbastanza Ricercata Ecco Era solo Quando arrivava Alla clinica Non saprei Non saprei Perché Io Lo vedevo Direttamente All'interno dei reparti Non lo vedevo Uscire Fuori Le faccio vedere però Un messaggio Che le scrisse Me lo date per cortesia Dove lui fa capire Perché Questa donna Poteva essere Una persona con cui Intraprendere Un rapporto di Sostegno Nella difficoltà Perché era questo Lo so che hai le palle Scrive Matteo Messina De Naro So riconoscere So riconoscere i miei simili Di te ho capito In un nanosecondo E non ci conoscevamo ancora Chiudivo L'ascoltavo la tua persona Comprendevo sentendoti parlare Con altri Subito pensai Questa è un tipo Cioè l'ha capito Cioè l'ha capito In un nanosecondo Chi si trovava davanti Questo l'ha scritto a lei Sì Ma è quel che pensava Lui Probabilmente Potrebbe anche Avermi Attribuito Qualcosa Che potrebbe essere Più di quel che Nella realtà Dei fatti è Però sa Lei scrive Qui So riconoscere i miei simili Scrive lui Evidentemente In quei momenti Qualcosa percepiva Guardandola Dice Ascoltavo Il modo di porsi di lei Quindi vuol dire Che era Anche nelle difficoltà Era una donna Che era forte Questo forse Lui piaceva È possibile È possibile Non saprei Ecco però Quel rapporto Poi si trasferisce In esterno Non rimane Chiuso In quella stanza So che un giorno La invita a pranzo Passa un po' di tempo Credo No? Sì certo Quanto è passato? Beh direi Un sei mesi Circa Almeno Ecco ma quel passaggio Non è una data Qualsiasi Cioè Adesso noi Lei È chiaro che lo valutava Come Andrea Bonafede Ma lei Assolutamente sì Sì Questo Si tengo a puntualizzarlo Insomma Lo sappiamo A sottolinearlo E a rimarcarlo Sì Però Io adesso le dico Che essendo Matteo Messina Denaro L'uomo più ricercato D'Italia È curioso che Inviti una donna A uscire con lui Per andare in un ristorante importante Visto che Era super ricercato Dove siete andati La prima volta? In un ristorante Nei pressi Di una Località Balneare Sul mare Del Palermitano Sì Mondello Sì Mondello è la spiaggia Famosa di Palermo Sì Ecco Ma la porta Lì Insomma ci sono dei bei ristoranti Sul mare L'ha scelto lei L'ha scelto lei il ristorante O l'ha scelto lui? No no Non l'ha scelto lui Mi disse Fai così Lei ha cercato Io ho visto Sì Ne ha presi uno Quale che sia Capisco che può Apparirle Strano Il fatto che Una persona Priva In teoria Della propria libertà Possa Concedersi La libertà Ed il lusso Di Ma Personalmente In quel frangente Poiché per me era Un Un Conoscente Di sventura Con il quale Come tanti altri uomini O pazienti Donne Condividevo Questa Brutta Faccenda Non Non Vidi Nulla Di Così Nascendentale Sì Però Mi scusi Io capisco La sua difficoltà Nel parlare Oggi Ma lei L'ho detto Per prima Che non sapeva Che fosse Matteo Messina Denaro Quindi è normale Per lei In un contesto Dire Andiamo a mangiare Insieme Con uno Con cui dividi Un momento Difficile Della propria vita Però la mia domanda È diversa Io l'ho fatto Una domanda Per capire Se lui Essendo super Latitante Super Ricercato A me Sembra curioso Che la porti A Mondello Che è un posto Insomma Importante Della Palermo Nella conosce poco Perché non ci sta Ma insomma Palermo Era tranquillo Sereno Cioè Questo vuole capire Sì Non Non ho Non ho avvertito Un Non aveva l'ansia Che Un disagio Ma avete mangiato All'aperto In un tavolo Chiuso Nascosto No No E lui era sereno E tranquillo Sì Sì Ti incuriosisce Questa cosa Probabilmente Faceva parte Di quella normalità Che lui Si era dato Del nascondersi Nella normalità Non aveva altra scelta Probabilmente Aveva deciso di vivere Il poco che gli restava Alla luce del sole Però Peter Cioè Questa immagine Che vediamo Insomma Non è molto lontana Dal grande identikit Che fecero gli uomini Della polizia di stato C'è qualcosa di diverso Però Però Ho capito Però A me quello che mi stranisce Peter È la serenità Con cui uno va Super latitante Va a mangiare fuori A Mondello A me Posso lasciare Un punto interrogativo A me non stupisce Francamente Non stupisce Perché Perché era 30 anni Che era latitante E credo quindi Avesse anche La certezza psicologica Che gli era sempre Andata bene Io per esempio Tu Che l'identikit Abbiamo visto decine di volte Sui giornali Io credo Che ci avessi mangiato insieme Non avrei mai pensato Che era lui E credo che questo Poteva accadere Un colpo di sfortuna Uno della catturandi Che magari Eccetera Eccetera Però insomma A me Tanti anni fa La signora Sicuramente Pensa La signora È al di là Di sopra Di ogni sospetto Io Tanti anni fa Ho intervistato Il fratello Di Bernardo Provenzano Simone Provenzano Lo andai a trovare In Germania E Simone Una delle cose Che mi disse Mi disse Senta Ma mio fratello È latitante Da 37 anni Se è latitante Da 37 anni Vuol dire Che qualcuno Ci porta il pane E se ci porta il pane Non sarà quella bestia Che lo tutti dicono Forse Allora Quello che voglio dire È che lui è un criminale Un assassino Un essere disgustoso Ma non pensate Che i criminali E gli assassini Siano diversi da noi Ci sono criminali Ad assassini Con cui puoi discutere Di un film Puoi discutere Di teatro Sentiamo un po' E questo Dobbiamo renderci conto Di questo Sì No Sentiamo Ecco Di che si parlava Con lui Cioè lasciava Per esempio Di donne Parlava delle donne Sì Si parlava Chiaramente Di tutto Della quotidianità Anche di banalità Volendo Ma si Si vantava Di conquiste Cioè Quando uno davanti a un tavolo Magari si rilassa Beve un bicchiere di vino Parla Racconta Cioè vorrei capire questo Sì Direi che Non si lasciava mai andare Più di tanto Di così Dicchiere di vino Ma mai al punto Da Pregiudicare Confidenze Che andassero Perché lui Le aveva detto Che doveva essere Sempre lucido Aveva Sì O sbaglio Vado a memoria La sbaglia del controllo Della lucidità Del non perdere mai Di vista Quella situazione Che stava vivendo Di donne Ne parlava Nel senso che Ostentava un po' Anche L'avere avuto Accanto a sé Sempre delle Gran belle donne Verità Gran belle donne Sì Sì Una per tutte L'austriaca No? Butler Una donna bellissima Una ragazza Bellissima Per la quale Lui ha ucciso Il vice direttore Del Dell'hotel A Selinunte Solo per aver detto Lui si era innamorato Di questa cameriera E disse Ma questi quattro Mafiosetti Rivolgendosi a Matteo Messinanaro E ad altri tre Che vogliono? Il giorno dopo Lui era cadavere E con lei Ha fatto poi Il giro del mondo Ma poi ci arriverà Io ho letto le cose Che lei già ha detto No? Ci arriverà Lei racconta Delle cose molto importanti Guarda che non ha mai fatto No oggi La tua intervista Su Repubblica Le sue dichiarazioni Sul Corriere Ascolta No Sono un racconto Che ho fatto io Quindi lei è la prima volta Che parla No che parla Certo No forse non mi hai capito Aspetta Che lei è la prima volta Che parla È ovvio Ma nel racconto Sul Corriere della Sera Che tu hai fatto Del racconto con lei No? Immagino Sì sì Eh E lì si vincevano E lo cercheremo di capire Come? No Quanto Quanto era Importante però Averla vicino Per superare Momenti complicati Che ha avuto Che scopriremo adesso Attraverso una serie di messaggi Che comunque Vi siete scambiati Cioè sapere Che c'era qualcuno Con cui condividere Magari Lontano Da quello che era Il suo mondo Lei non lo sapeva Ma lui Forse in lei Vedeva una persona Con cui dialogare Parlare Approfondire anche Certi Certi discorsi Onestamente Non saprei Quanto potesse Essere importante Potrei dirle Quanto poteva Essere O meno Importante Per me Quanto era per lei? Tanto quanto Potevano essere Tanti altri pazienti Con cui ha avuto Uno scambio Di Conoscenza È un momento In cui Il percorso Ti induce A cercare Dell'aggregazione Con gli altri Voglio farla vedere Per una fotografia Che lui le manda Sì Questa è una fotografia Abbastanza particolare È una fotografia Dove lui Non mostra Suo volto Però ha in mano Un sigaro Montecristo È un cognac Che valore avevano Queste foto Che le mandava? Assolutamente Nulla di che Voleva far vedere Che era comunque Un uomo ricco Forte Potente Forte È un uomo Che non ha mai Rinunciato A manifestare O ad ostentare Il buon gusto Per le belle cose Quindi anche Il bere Un cognac Di prestigio Insieme Ad un sigaro Che sinceramente Non conosco Non la portava Non la portava In una trattoria Cioè La portava sempre In locali Di un certo tipo Non mi portava Mai Non c'è Un mi portava Sempre No Dico se Era un ristorante Importante Non era un posto banale Cioè Lui era uno Che parlava Di essere uno Che voleva essere No No Massimo Non perché Non frequentava Le trattorie Non lo so È capitato Che Si è andati A mangiare fuori E quella volta Che si è andati A mangiare fuori Ha lasciato L'opportunità Di decidere Io Dove Come Quindi Non gli posso Attribuire Che Non mangiava Presso le trattorie Ma solo In Non ne ho idea Con lei Per ora Era lì Con me È successo E non si è andati In una trattoria Pagava in contanti Posso chiederglielo Se ha visto Non ha pagato Davanti a me Si è alzato E è andato a pagare Quindi Non saprei Però poi Le mandava Dei messaggi Un po' strani No? Che manda Un ragazzino Cioè Abbiamo trovato Questi due Massaggi Ci sono due video Anche Che vanno un po' Oltre il confine Oltre quella Sottile linea rossa Che c'è Nei rapporti Tra persone Soprattutto Di sessi diversi Che forse Starono Un rapporto Di cameratismo Proprio per la Per il condividere Magari Certe La malattia Insomma È quasi Amicale Quasi cameratesco Guardiamo il primo Così sa cosa si prova È uscita Vedo che lei sorride Come Gomez La fa sorridere Però Immaginate il capo Della mafia Che manda Questa donna Una cosa del genere Che è molto allusiva No? Sì Esattamente come diceva Il buon Gomez Anche il terrorista Il più grande stragista Comunque un essere umano Come ognuno di noi Quindi Ha anche una componente Ironica Simpatica Cioè Anche loro Credo che Cerchino Quel qualcosa Per poter ridere Barra sorridere Ne faccio vedere un altro Che è un po' pesante Però questo Guardiamolo Ecco Lei Quando riceveva Questi Questi Chiamiamoli queste Robbe No? Sì Non trovava Che era un po' Sì Possiamo dire Dava un po' fastidio Magari Cioè Visto che non era Un rapporto Tra amanti Ma era un rapporto Tra amici Provavo Assolutamente Fuori luogo E lei glielo diceva? No Ah No Non glielo Mai detto Perché Mi sembrava Curioso Renderlo ridicolo Però Non lo gradiva? No Peter E fa parte Di quella cosa Che diceva prima Ti stupisce un po' A vedere È uno che ci prova Voglio dire Ci prova Non con grande classe Io non ci proverai mai Con la signora In quella maniera Ma c'è un sacco Di uomini Che provano in quella maniera Insomma Non dobbiamo Abbiamo un'immagine Di cosa nostra Sono dei criminali Commettono dei delitti Eccetera Però poi vogliono bene I loro bambini Cioè Parliamo di persone Che hanno fatto Delle scelte E commettono Dei reati Ma non sono Cattivi al 100% Nella loro vita Dalla mattina Alla sera Altrimenti Non sarebbero così amati Dalla gran parte Della popolazione Insomma Qualmui che era Lattitante In quel paese In quel paese Ci sono molte Centinaia di persone Che sapevano Esattamente Chi fosse E non erano Necessariamente Mafiose Sì sì No Ecco Non cerchiamo Di avere questa Non è che la mafia È altro da noi La mafia Ha tanto successo In certe zone Del paese Perché Perché Da quello Che non è in grado Di dare allo Stato La violenza È solo L'extrema razio Per la mafia Sandra Io però Voglio ricordare A tutti Soprattutto ai giovani Che Matteo Messina De Naro Non mi stanco di dire È l'abisso Del male Cioè Non è che Perché passano Questi messaggi Che facciamo Vedere Ah che bello Che spirito Cioè Ricordiamoci Chi è Sandra Matteo Messina De Naro Loro nasce Dall'odio Per loro Uccidere Avere ucciso Falcone Borsellino Hanno ucciso Dei nemici Perché Il loro obiettivo È lo Stato Lo Stato È un nemico Dopodiché E al di fuori Di questo C'è una vita Di relazioni Di affetti Di conquiste Di padri Di madri Mi stupisce Che raccontasse A questa donna Le sue conquiste No Non mi stupisce affatto E neppure mi stupisce Il fatto che fosse amante Della bella vita Perché attraverso le indagini Abbiamo iniziato a conoscerlo Ha sempre fatto questo Belle donne Bella vita Vestire bene E disponeva di molti soldi Era sui genesi Non era il Totorrino Non era il Provenzano Non viveva Nei Nei Tugurio Si nascondeva Negli ovili No Ha sempre vissuto In ville Le hai mai Parlato Degli anni Un uomo Sui 60 anni Magari Si lascia andare Ogni tanto Ha una confidenza Su dove ha vissuto Per esempio Nel suo passato Le hai mai raccontato Se era all'estero No 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 Sinceramente Questo no No Del presente Del passato Non parlava del passato No Non è mai successo Poi arriveremo magari Sulla famiglia Forse si Ha lasciato andare Su delle confidenze Io però Vorrei tornare Da dove siamo In fondo partiti E da dove parte Questa storia Perché questa storia Parte perché Questa donna Lo ripeto Partiva Molto spesso Per andare A raggiungere Palermo In macchina Accompagnata dai parenti Per sostenere le cure Contro un tumore E in quella stanza Ha incontrato Andrea Andrea Bonafede Che per lei È sempre stato Andrea Bonafede Fino a quel giorno In cui si scopre la verità Ecco Come lo chiamava Come definiva la clinica Perché la definiva In un modo particolare Sì Lo squallido Lo squallido Quando è che glielo disse La prima volta Non mi ricordo Era Un modo di dire Di definire La struttura La chiamava Lo squallido Era lo squallido E quindi anche per lei Diventa Lo squallido Per lei Era sempre la maddalena No Non l'ho mai vissuta Con lo squallido Per me era la clinica Ma secondo lei Perché lo definiva così Perché sapeva Che era un posto Per lui forse terminale Un percorso di vita Era un luogo di sofferenza Sì Penso di sì Mi attribuiva chiaramente Questo nome Perché E chissà Di avere Questo tipo di problema Non penso che Possa essere bello Sapere di dover andare lì Le faccio sentire Questo audio È un audio Dove lui parla Di come si affronta la malattia Ascoltate Matteo Messina De Naro Ma boh Ti lascio divertire Con i tuoi amici Ti abbraccio Io per ora sono un leone Vedi Però lunedì C'ho la terapia E andiamo sempre là Che ci possiamo fare Però per ora Sto benissimo Molto molto bene Amica mia Ti abbraccio Ti voglio bene Ti penso Anche oggi ti pensavo Anche pomeriggio Ti pensavo Anche se non ci siamo sentiti Ma sappi che ti voglio bene Ciao ciao Un bacione E divertiti Ciao ciao Sempre Era una costanza Sì Sì Dice sono Lui è ad esempio Uno molto possessivo Con le donne In generale Invece qui Vedi la malattia Come lo cambia Dice io non posso chiederti E' vera questa cosa Che emerge E' molto interessante Perché lui era Di una gelosia Incredibile Lo facciamo Lo facciamo scusate Lo facciamo scusate Riascoltare Per entrare nel dettaglio Per cortesia Dalla regia Perché c'è un passaggio Che ti voglio bene Ciao 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 Un bacione E divertiti Ti lascio divertire Con i tuoi amici Lui è molto sottile Ma guarda che lui È di un'intelligenza Incredibile Lo leggeremo anche Nei altri passaggi Che effetto le fa Ascoltarlo adesso Sapendo che In quei momenti Con questi messaggi Che cosa voleva dire? Ma faccio ancora fatica A Pensare che queste due identità Possano essere le stesse Faccio fatica Era così diverso Rispetto a quello che sappiamo? Assolutamente un'altra persona Assolutamente un'altra persona Le immagini Chiaramente non mi lasciano Dubbio Alcuno Sulla vera identità Ma Noi abbiamo conosciuto In clinica Una persona Totalmente Differente Quando dice totalmente differente Cosa vuol dire? Umana, disponibile Affettuosa Premurosa Ecco ma Facciamo un esempio Quando ci siamo parlati Lei mi ha detto Che un giorno Ha fatto una follia Per lei Sapeva che le piacevano I dolci Le paste Le ha fatto arrivare Un camion di pasta No No, no Massimo No, ha capito male Lei Beh No Massimo Ha raccontato Di avere A una A una Sua amica Allora A chi? Non ha fatto arrivare le paste a nessuno Le ha acquistate Per poter vedere Non ha mai fatto una follia Un regalo fuori dal normale No, no, no Un pensiero particolare No No No, ci credo Non vedo Non vedo motivo Le faccio vedere una grafica Sì E un altro messaggio Che ci fa capire Comunque Qualcosa di più Ve lo leggo Nella mia vita Ho avuto momenti terribili Anche se non si vede Non parlo del tumore Quindi fa capire Altro, no? Oggi Con la chiave del poi Sapendo che lui Non è Buona fede Ma è Matteo Messina Denaro Forse Parlo del tumore I momenti terribili Sono ben noti E quindi so Per esperienza Che quando si sta Come te per ora Non si deve parlare Perché chi sta male Non vuole sentire Infatti capendo Il tuo stato d'animo Ho taciuto Cioè Non l'ha più cercata È stata in silenzio Per qualche tempo Io ho subito Un intervento pesante Al colon 5 ore e 40 minuti Di durata Mi avevano detto Che era tutto a posto Che era tutto ok Però poi Cosa succede Quella famosa Brutta avventura In realtà Non era finita Non fu così Mi sono dovuto Operare di nuovo Quindi veniamo a sapere Che In 5 mesi Si è operato 2 volte Una volta Per 5 ore e 40 Un'altra volta Per 5 mesi Fegato Metastasi 6 ore e 30 Poi la chemio Che sai Fino ad oggi Che voglio dire Che dopo tutto questo Io sono qua Non spero In niente Ma sono qua Ribadisce Cioè Non mollo Questo sostanzialmente Ci sono ancora Ci sarò ancora Il tuo percorso Dice la donna Che ho qui davanti È simile al mio Dobbiamo soffrire Ma ce la farai Quindi era un Racconta Oggi leggendolo Quei momenti terribili Che io ho vissuto Forse sappiamo Quali sono Quali Quali Che sensazioni ha Uno che non voleva mollare Ci fa Dice io sono qua Continuo a essere qua Due operazioni pesanti Si Si apriva con lei Perché se una persona Scrive questo Vuol dire Si apriva con me Ma non faceva fatica Comunque Ad aprirsi Con me Come magari Anche con altri Ci fermiamo Un secondo Di pubblicità E poi Continuiamo Perché abbiamo Due audio Molto importanti E altri Messaggi Due audio Che ho trovato E vorrei che lei valutasse Prego Peter Il racconto che fa questa donna E anche i messaggi Che abbiamo Letto Abbiamo anche ascoltato Vorrei una tua valutazione Guarda la valutazione È di un uomo Che sa Probabilmente andare Incontro agli ultimi E che Quindi Fa cadere Una serie di difese Rispetto all'atteggiamento Che ha nei confronti Di questa signora È l'atteggiamento Di un uomo Che potremmo definire Un femminaro Come si dice Da quelle parti Che accorteggiava Palesemente La signora Ma io credo Che il suo trasporto Rispetto agli altri malati Potesse anche essere autentico Perché Ciascuno di noi Che ha provato In famiglia Qualcuno Che aveva Quella terribile malattia Sa quale spirito Di solidarietà Si crea Tra i quali Fanno La chemioterapia Perché hanno di fronte Un destino Che è un'incognita Quindi Non mi sorprende Quello che è accaduto Ma secondo te Quando parla Di momenti terribili No? In quel messaggio Che ho letto prima Dice Io ho vissuto Momenti terribili Che non sono legati A quello che sto vivendo oggi No? La ripeto Allora La mia vita Ha avuto momenti terribili Che supposizione ti fai? Io ho una supposizione Pensando a quello Che ha dichiarato Spatuzza Rispetto alle stragi Del 93 In cui Graviano È pienamente coinvolto Loro Sono stati contenti Di ammazzare Falcone E la scorta Perché dal loro punto Di vista E anche da Borsellino Perché dal loro punto Di vista Quello era Un nemico E quindi Lo sentevano Dal loro punto di vista Malato Giusto Farlo Sulle stragi Del 93 Invece succede Una cosa diversa Nel commando Le stragi Vengono ideate Perché in teoria Non dovevano fare Vittime Dovevano all'inizio Colpire solo i monumenti E lui sa Perché Con chi Ha ideato Quali monumenti Colpire Ma in realtà Le stragi Hanno fatto vittime Vittime Innocenti Anche un bambino E a un certo punto Spatuzza racconta Che con Graviano Non con lui Lui e gli altri Uomini del gruppo Sentivano il peso Di questa cosa E ne parlano Con Graviano E Graviano Cosa dice Dice Noi ci dobbiamo portare Dietro questi morti Che sapevano Perché Rina Era un pazzo Rina era un uomo Che diceva Si possono mettere Le siringhe Con l'ice In spiaggia Intanto I bambini Ne muoiono tanti Anche al Sarajevo Non tutti i mafiosi La pensavano così E quando Graviano dice Dobbiamo portarci Dietro questi morti Compreso il bambino Perché dice Perché poi Succederà una bella cosa Perché poi Faremo l'accordo E le persone usciranno Di prigione I nostri amici Ecco Io credo Che Per alcuni di loro Un conto è l'omicidio Un conto è la strage Degli innocenti Che per la prima volta Avviene sostanzialmente Nel 93 Perché le stragi Precedenti Erano mirate Contro il magistrato Eccetera Contro i nemici Qua invece Si è andati a colpire In maniera indiscriminata Ma è una lettura Tutta psicologica mia Alla luce di quello Che ho letto Di verbali E sentito Con la proposta Di giustizia Che parlavano Ti faccio ascoltare E vedere un altro Scusate Un altro Messaggio Dove parla proprio Di questo squallido Come luogo Che era la clinica Dove andavano in cura Sarai in qualche chiesa Dice Credo lo dica lei No Sarai in qualche chiesa Ed il meno che pensi E leggermi Aiutami Help Help Sono rimasto solo La mia amica Mi ha abbandonato Allo squallido Non è giusto però Abbandonato come un randagio Anzi come un randagino Con una gamba spezzata In mezzo a una pozzanghera La notte di Natale Tutto questo Per me è lo squallido Sei senza cuore Devo questuare Il tuo affetto Ma è giusto E l'imosinare L'imosinare affetto Cioè aveva bisogno Di sentirla Si sente solo Abbandonato E lei Poteva darle Una mano forte Probabilmente perché Condivideva Gli stessi problemi Sì Certamente Vivere La stessa Problematica Accomuna Ci si accomuna Ci si aggrega Sì ma la sofferenza È il suo modo di vivere Cioè lui scrive Sono solo Sì Cioè l'uomo più Oggi Lo guardi come Matteo Messina Denaro Non lo guardi come Buonafede E faccio fatica Sì ho capito Ma era l'uomo Molto potente L'uomo di fronte al quale Tutti avevamo paura E timore Ti scrive Sono abbandonato Come un randaggio Sei senza cuore Deo quest'ora Il tuo affetto Mi avete abbandonato Mi hai abbandonato Allo squalido Molto debole Apparentemente Apparentemente O magari era un modo Per spingere lei Allora A stargli più vicino Io penso che Durante un percorso Complicato Di sofferenza Si possano Si possano alternare E' un'esercizio E' un'esercizio Anche Un momento di debolezza Un momento di debolezza Un momento di debolezza Che chiaramente Si scontra Totalmente Con il Sono un leone Quindi Appunto Si alternano Questi Momenti Di Situazioni Che sono Esattamente Controvertibili No Non direi Che Aveva Paura Della malattia No Anzi Non gli faceva Paura La malattia L'affrontava Quando ne parlavate Con forza Come se nulla Gli importasse Prego Sanda Lei dice Una cosa Secondo me Giusta Non aveva Paura Della malattia Ma aveva Timore Di quello Che lui Non era Non riusciva Ad essere più Cioè L'uomo Il capo Quello Che dava Ordini Quello Che comandava La malattia Gli impediva Tutto questo Quando lei Dice questa cosa È giustissima Lui non ha Avuto paura Tant'è Che il primario Della clinica Quando gli Comunica Racconta Che quando Scusa un secondo Sto vedendo Ismaele Lavardera Che questa sera Racconterà Della testimonianza Che ha raccolto Di una persona Anonima Che è stata però Sentita dai ROS Dai magistrati Che dichiara Che a Palermo Nel cuore di Palermo La borghesia Faceva dei festini Con donne Droga A cui partecipavano Anche Partecipava Un noto politico E fa il nome Di questa persona Ismaele Quindi tra poco Ascolteremo Quello che ha da dirci Però prego Ecco no Questo aspetto qui Lui non aveva paura Il primario Della clinica Dice che quando Gli ha comunicato Una sentenza Cioè dicendogli Che avevano A metastasi E che quindi Lo dice anche lui Ecco che il tumore Andava avanti Dice non ha fatto Una piega E lui non aveva Paura Del tumore In sé Ma aveva paura Di quello che lui Non riusciva più Ad essere È così Può essere Oggi Lei sa che quello Non era Andrea Bonafede Ma era l'uomo No Continua a far fatica A pensare Che Cioè ad attribuirgli Questa identità Posso assolutamente Non ha mai parlato Di crimine Di mafia No Mai No 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 Mai No Per quello dico Faccio fatica Le voglio far ascoltare Però una cosa diversa Abbiamo recuperato Ho recuperato Un audio Dove parla Da indicazioni stradali Di una persona Di che non posso dire Chi è Ascoltatelo Poi Certo lascia perplesso Che lui parlasse Sentite Ciao È la scelta migliore Io non te l'ho proposta Poco fa Perché essendo voi Di fuori Pensavo che non sareste Siusciti a trovare Quella strada Allora fai così Esci a Campobello E prosegui per la statale Arrivando a Mazzara A sinistra C'è Il pago poco È un supermercato E poi Subito il pago poco C'è Credo Queste che vendono Con queste tecnologie Un euro E c'è una piccola Rotonda Gira attorno Questa rotonda A sinistra E ti imbocchi Per via Le Africa Prosegui Entro Un 3-4 cento Vedo un passaggio A livello Prima del passaggio A livello A sinistra C'è via Un'età d'Europa Facilissimo Invece Dall'autostrada Ti viene più lungo E più complicato Cioè Dall'autostrada Dall'autostrada Tu andavi ad allungare 5-6 km Invece Da là Arrivi subito Spero Ad essere riuscito A spiegarmi Ciao Ecco Questo non c'entra niente Con lei L'ho tenuto In un'altra strada Peter Però è curioso Sentire che dava Indicazioni precise Su dove andare Alla luce di oggi Guarda Io Mi sto convincendo Lì dentro Ci sono Da quello che ho letto Sono state sequestrate Carte di identità I documenti Che risalgono Anche a 15 anni fa È verosimile Pensare Che Matteo Messina Denaro Si sia mosso Sempre così Semplicemente Assumendo identità Di persone Esistenti Ma connimenti Con lui Sì Quindi quando venivi Fermato Non avevi Dei documenti Falsi Sì però Mi fa impressione Scusa Mi fa impressione Una cosa Lui Racconta Come se fosse Google Map Cioè Alla precisione Di uno Che quel territorio Lo conosce a memoria Come se fosse Sempre stato lì Ci si è nascosto Capito Però Cioè Anche Anche i negozi Anche i supermercati Nuovi Non è che C'erano lì Trent'anni fa Quei supermercati Questo voglio dire Lui ha sempre Vissuto lì Ci fa capire Tante cose Questo messaggio Ci fa capire Qualche cosa O no Ha sempre Vissuto lì Quella è La sicurezza Che sensazione Le dà Di queste indicazioni Stradali Di Matteo Messino De Naro Concordo Pienamente È chiaro Che ha Una conoscenza Perfetto Aggiornata Sta proprio In linea Anche con Tutte le aperture Dei negozi Infatti Dice Queste cose Tecnologiche Questi che vendono Cose tecnologiche No L'Uni Euro È chiaro Che l'Uni Sa Chi Ha aperto Chi E chi Sta per aprire O chi Ha chiuso Questo è molto Interessante Scusi Ma Della famiglia Sì Le ha mai parlato Sì Qualche accenno L'ha fatto Alla famiglia Ma cosa le ha detto Era sposato Aveva Una ex moglie E questo Raccontava Più o meno è vero Sì E E E Delle figlie Due Tre Due Tre Addirittura Sì 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 Ma Tutte Tutte all'estero Diceva Sì Le ha dato Qualche indicazione In più Dunque Due Studiavano Avevano Studiato E A seguito Degli studi Fatti Lavoravano Poi anche All'estero Ricordo Londra Non so Non so se Tutte e due O una E poi C'era una terza Figlia Avuta Con un'altra Donna Non la moglie Una donna Però Sicuramente Non italiana Viveva fuori L'Italia Che era Che era Stata Concepita Alle Isole Maldive Non so Perché Specificava Questo Dettaglio Però Gliela Aveva Dato Poi E' chiaro Che noi Non possiamo Ovviamente Può darsi Che lui Unisse Anche prima Con Baiardo Vi ha visto No E' una tecnica Di dire Delle cose Vere A delle cose Non Vere Anche se Per lei Lui era Tranquillo Perché Sapeva Che era Andrea Bonafede Non avremmo dovuto Credere Che avesse Tre figlie Ma la moglie Perché l'aveva Lasciato Raccontava Degli aneddoti Un po' Che Lasciavano Intendere Che questa moglie Lo aveva Lasciato Per via Di alcune Di alcune cose Da lui fatte Aveva scoperto Dei tradimenti Insomma Meritevoli Che un uomo Debba fare Nei confronti Della propria moglie Quindi Diciamo che Da questo punto di vista E' accredibile Mi sembra Delle numerose donne Che hanno Mescola cose passate Cose recenti Vere False Allora Adesso però Le chiedo una cosa Noi abbiamo Un audio Recuperato da una persona Che è molto importante Secondo me Perché parla Della madre Poi le chiederò Se con lei Qualcosa dicesse Ascoltiamolo E un audio Dove dice Praticamente Lo introduco Probabilmente Aveva dei contatti Anche questo Un audio Molto curioso Perché ascolterete Che la donna Che gestiva La badante Della madre Parlava con lui Ascoltate E c'è la ragazza La donna Che sta assieme A mia madre E ieri sera Mi cerca Ha trovato Un foglio scritto Di mia madre Di pugno Di mia madre Però Non c'è messa Da quando L'ha scritta Mia madre Non c'è con la testa Quindi Non c'è messa E scriveva Un sacco di cose Però cose sensate Cioè vuol dire Che quando Ha scritto Questo foglio di carte Era lucida Comunque Il punto è Che ad un tratto Alla fine Si rivolge a me Dicendomi Che Quando sarà morta Al suo funerale Ma che lo dice Che io muoio Dopo dell'aria Lei non lo so Questo ma lo so io Quando sarà morta Al suo funerale Vuole Dietro al suo funerale La banda musicale Che deve suonare Sempre un unico Un unico motivo La Jadiske Mars O La Marcia La Marcia Le Kaiser Quella che fanno A Vienna Per il capodanno Quella finale Quella con il pazzo Delle mani Tutte queste cose E quindi Ora vuole sta cosa E quindi si deve fare Perché le volontà Delle persone Si mantengono Mia Marcia La Costi È un tipo Estrosa Diciamo Nel suo Nel suo modo Di fare Magari Ho preso pure un po' Da lei Non lo so Qua mi sono rotti Il coglione Di brutto Ciao ciao Al momento Bella questa cosa Dentro ci sono tante cose Dentro questo Beh andiamo per gradi Intanto parlo anche a Peter C'è un passaggio dove dice Angela Noi non sappiamo se sia Questo il nome poi Vero Della donna Che segue la madre Mi avvisa Mi chiama Quindi Dalla casa E questo è un atto In investigativo E questo è un atto Che serve E beh È un atto In investigativo Importante Beh Cioè Perché Questo vorrebbe dire Che Lui attraverso L'abadante Aveva dei contatti Magari non diretti Magari mediati Da una terza persona Ma questo Lo possiamo dare Per scontato Perché tutti I latitanti Di Cosa Nostra Mantengono rapporti Con i loro familiari Tant'è vero Che quello che si è capito Rispetto Non è uscito molto poco Ma quello che si è capito Rispetto Alle intercettazioni Che avrebbero portato A individuare La sua malattia Che sospetto Negli investigati Perché ovviamente I familiari Dei grandi latitanti Sono intercettati In continuo Lo sanno È successo Con Provenzano È successo Verosimilmente È successo Anche con questi Però Parlavano Della malattia Di una terza persona Però è singolare Che lui riuscisse A tenere Lo stesso Questi contatti Con la famiglia Attraverso la badanza Questa è l'intercettazione Che i carabinieri Hanno detto Dalla quale è partita Poi l'indagine Sui server Esiste questa intercettazione Ecco io la vorrei ascoltare Però Io ho molta stima Anch'io Io ho molta stima Del procuratore di Palermo Che conosco da una vita Non ho motivo Di credere Però i giornalisti Le domande Le debbono fare Debono continuare a farle E io quella Quella intercettazione Lì la vorrei ascoltare Invece Perché è importante Ascoltarla Perché vuol dire Che la famiglia Sapeva che lui era malato Da quello che dite In stampa hanno detto Che hanno appreso Che lui era malato Di tumore Da un'intercettazione Con la famiglia Con le sorelle Però scusi Lei Lui parlava di sua madre No Sto ascoltando Questo messaggio adesso Questo messaggio No mai Con questa persona Invece ha parlato Sì Non sapevo neanche Che avesse Non ne parlava No È anomalo No Però Sandra Murri Aveva intervistato L'ex moglie Del senatore Dalì E aveva toccato Proprio il tema Della madre Aveva vissuto Di Matteo Messina Del denaro Rivediamolo Che è importante È un passaggio breve Ma portante Don Ciccio comunque Era un uomo Rispettato da tutti Lei lo conosceva bene Diciamo Era un uomo gentile Mi dice Era un uomo gentile Era un uomo gentile La moglie Un'ottima cuoca Faceva un pollo Al forno Come a nessuno Era una donna Molto forte I figli Avevano soggezione Anche Matteo Matteo Era un ragazzino Molto vivace Questi occhi verdi Trasparenti Col taglio orientale Molto brava scuola Mi chiamava Signora Antonietta Matteo L'ho tenuto tanto Sulle ginocchia L'ultima volta Che l'ho visto Avrà avuto circa 20 anni La mamma Era una donna Che il marito Si è dato La tirante Non ne parlava mai Con lei Questo è un dato strano Nel 88 Quindi una donna Molto forte Un maschio Che non parla della madre Strano Aveva con lui Un rapporto molto forte Ma era malata da tempo La madre Da pochissimo tempo Ecco l'altra cosa importante Che a me ha colpito È da pochissimo tempo Che viene fuori questa cosa Tant'è che la sorella Rosalia Si è trasferita Si è trasferita a casa Della mamma Perché appunto La mamma sta molto male Quindi questo audio Un elemento Con tanti punti E poi mi ha colpito Del primo dell'anno Del concerto A Vienna Perché i collaboratori Dicono Dove lui è andato Con Andrea La sua fidanzata Con Andrea L'austriaca L'ultimo dell'auto Tant'è che i collaboratori Hanno raccontato Che commentavano Quindi è un audio Che torna È un audio Che torna Certo Adesso però Andiamo al punto Che le ha sempre detto Sono un imprenditore Nel settore agricolo E parla di olive Ascoltate Ah che volevo dire Tu mi guarda Al supermercato Al banco Sono molto lucide Non sono lucide E perché loro lo fanno Con le lecce Non lo fanno De proposto Perché lo sai Ormai si nasce Pure i coglioni In cui ce l'ho Direttata Ha un senso Di bellezza Però tu Non lo sai Perché cambiano Pure un po' Quei gusti Ma come Possiano L'olio Mascale Ma non solo Dice una cosa in più Che voglio farvi sentire In un altro passaggio Ascoltate Non è che lo devo dare Solo a te Ho tante persone Ho tutti gli amici De là De lo devo dare Tutti gli infermieri De lo devo dare A parecchi medici Gli lo devo dare Ma non è che posso fare Per ogni persona Un viaggio Ci sarebbe Della grazia Che non sono A proprio tipo Io sto Soprattutto In quattro viaggi Che faccio Mi spiego Tutte queste cose A te Ti ho messo Già gli amici Ovviamente E Io La giornata È Nove novembre È un mercoledì Perché faccio Io il sette novembre Faccio terapia Poi il nove novembre Vengo a togliere La bottiglia Quindi tu già Organizzati Per rimandarmi Qualcuno Il nove novembre E io Ti sa togliere L'orario Perché ora Devo fare Un unico Orario Con tutti Ovviamente Non pensare Motore Ci vuole la macchina Poi ti devo dire Questo Quest'olio Già lo conosci È un olio biologico Non è mai stato In vendita Quest'olio Io l'ho sempre fatto Per la mia famiglia Per me Per regolare Agli amici Ovviamente È una gran cazzata Che ti dico Che è biologico Perché dopo una vita Di mangiare L'olio biologico Mi viene un tumore Quindi figurati Quanto me ne può Fottere ormai Dell'olio biologico Ma comunque È una tradizione E ho continuato A farlo Quest'olio È molto aggressivo Vedi Alla gola A noi piace così A voi Non piace così Se ti senta forte No lascia Decantare Non lo toccare Lo prendi Lo apri a maggio E a maggio Sarà manzuito E per l'olio Già sai come fare Quindi io penso Che Ti farò Un altro messaggio Prima di mercoledì Per dirtelo a dare Manda Manda Vedi tu Vieni tu Con il grande Tu c'hai l'auto Vedi tu E comunque Per il nuovo Lo dobbiamo fare Ah L'olio viene Quest'olio viene Molito Questa notte Questa notte Sarà molito Tutto questo Per Per me Per i miei amici Ti voglio bene Lo spero che anche tu Lo spero tanto L'ha mandato l'olio L'ha portato poi l'olio Sì Quindi manteneva le parole Sì Se lei lo dovesse rivedere Oggi che sa chi è Cioè lo vorrebbe Incontrare ancora Pur sapendo chi è Eh Massimo Faccio molta fatica Ancora Mi sento Provata Provata Tutto questo che Credo sia più grande Di me Non saprei Non saprei Grazie per essere stata Con noi Questa sera Grazie a Peter Gomez Grazie a Sandra E adesso lei Non si muore Rimanga qua Perché sta per entrare Ismaele Lavardera Però vi voglio Far ascoltare C'è un grande Sospiro Tensione molto Forte Che ha vissuto Per questo La ringrazio molto Perché comunque È importante Avere un altro Quadro Delle cose Chi c'era A questi festini Ascoltate Che cosa dice Quest'uomo Poi sarà la magistratura A dire se è vero o no Ascoltate Due anni fa Dopo il periodo Del Covid Ho avuto la possibilità Di essere presente A una festa Prima di entrare Veniva fatta Una specie di perquisizione E non potevi portare All'interno Il telefono Quelli che erano lì Mi si presentano Solo per nome E mi hanno spiegato Che chiunque Di quelle persone Incontrate lì dentro Se io Le avessi viste fuori Avevo dovuto far finta Di non conoscerle C'era cocaina Non era farina Zero zero Erano tutte persone Di classe Mangiavano Conversavano Tutto a base Di pesce Ostriche Ricci di mare C'era il Mont Blanc Champagne E vini molto costosi Fino alla mezzanotte C'erano le cameriere Normali Poi dopo Arrivavano Le escort Ragazze di lusso Non ho parlato Con un magistrato Per paura Credimi In questo momento Sto tremando Mi prendo conto Di essere a rischio Cioè Questa storia È troppo più grande Di me E quasi quasi Mi pento di averti parlato Ho fatto fatica A convincere Ismaele Lavardera Che vedete qui Inquadrato A venire da oggi Questa sera Da noi Allora Ismaele Lo conosco da tempo È un collega Ha lavorato per le Iene Con parenti Con successo Poi ha intrapreso La carriera politica E oggi è vice presidente La commissione antimafia In Sicilia Le parole Che avete appena Finito di sentire Sono le parole Di un uomo Che ha voluto Parlare Solo con Ismaele Non si fidava Evidentemente Delle istituzioni O di altro Ha voluto Raccontare Quello che avete ascoltato E quello che stiamo Per ascoltare Solo a lui Ismaele Mi ha detto Io Se vengo da te Poi vado In sovraesposizione Mediatica Attirandomi Critiche E io L'ho ribadito Invece Insieme Siamo più forti Bisogna avere Coraggio Di raccontare Certe cose Noi qua Raccontiamo Che una persona Ti ha parlato Poi saranno I magistrati I carabinieri Dei Ross A capire L'attendibilità E se è vero Quello che lui racconta È così In queste settimane Abbiamo ascoltato Direi quasi Notizie ossessive Compulsive Su Messina Denaro Stini Anche diciamo Diamanti Di peluche Anche il Viagra Di cui Non ce ne può fregare Di meno Però Hanno parlato anche Del Viagra Di cui Esatto Proprio non è notizia Questa storia Invece Se fosse vera Mette al centro Proprio quella Cosiddetta Borghesia mafiosa Quella di cui parla Il procuratore De Lucia Esatto Perché a partecipare A questi festini C'erano soggetti Insospettabili Massimo Cioè quando Quello che è importante Adesso ci arriviamo Perché quest'uomo Decide di parlare Con te Prima di parlare Con chiunque altro Questo è curioso E io È la stessa domanda Che ho fatto Quando sono trovato davanti No Perché Non mi fido La parola che mi Che mi ha colpito Immediatamente Non mi fido Non mi fido Perché quando tu guardi Sullo stesso tavolo Mangiare Matteo Messina Denaro È un esponente Delle forze Dell'ordine Tu ti chiedi Con chi devo parlare Attenti a quello Che stiamo dicendo E che ascolteremo Cioè in questi festini Quest'uomo O questa donna Perché noi non sappiamo Se un uomo O una donna E Ismaele Ovviamente Tutela al massimo La figura di questa persona Di questo testimone X Lui dice C'era Matteo Messina Denaro Non sempre Spesso C'era anche Un famoso politico C'erano anche Uomini Molto importanti Della Palermo Bene No Ecco Dove l'hai incontrato Me lo puoi dire questo La prima volta Diciamo che La prima Richiesta d'incontro Risale esattamente Al giorno stesso Della cattura Di Matteo Messina Denaro Il giorno stesso Della cattura Di Matteo Messina Denaro Mi arriva questa chiamata Dice sai Ho informazioni importanti Su Messina Denaro E su presunte feste Mi sono catapultato Nel luogo Per cercare di parlare De visu Questa persona Chi ti sei trovato davanti Non entra nei dettagli fisici Cioè tu sei abituato A fare interviste L'hai fatto nel passato Quindi anch'io capisco Se ho davanti uno che vuole Oppure uno che è molto bravo E addestrato Mi sono trovato davanti Una persona che raccontava Un racconto verosimile Una persona per bene Che non aveva Chissà quale pretese Nel raccontarmi questa cosa Sai Spesso ti capi Dici Sai Però racconto A patto che A condizione che Zero condizioni Racconto questa storia Perché è troppo più grande Di me Lui dice Io sto tremando Io sto tremando E ho bisogno di Condividerla Ho bisogno di raccontarla E il senso Che il fatto Che mi ha portato Poi qui Questa sera A parlare con te Massimo È Che questa storia Più siamo a conoscerla Meglio è Per tutti Quindi Ricapitolando bene 16 gennaio La cattura Dell'uomo Che si chiama Buona fede Si rivela in realtà Lo sapete tutti Ora è Matteo Messina e Denaro Questa persona Che vuole parlare Con Ismaele Capisce Che quell'uomo Era quello Che lui incontrava In questo posto A Palermo Presumo Sì Una città E dice Ma non è possibile Perché in quel posto C'erano persone Che contano Come faceva Matteo Messina e Denaro Essere lì tranquillo Sereno Dialogante È così? Assolutamente sì È chiaro Che tutte le informazioni Nella completezza totale Io l'ho rivessata Ai carabinieri di Ross Sì Perché tu sei uscito Sei andato subito Dopo che hai ascoltato Sei andato lì E ovviamente Allora ho raccontato Tutto nel dettaglio La fonte Chi c'era A questi festini Perché credo che Bisogna Sì tutelarlo A livello mediatico Però non potevo Mantenere il riservo Con le forze dell'ordine Perché sono gli unici Che possono Indagare Sulla veridicità È stato ascoltato Sì Che volte Sì Vediamo cosa dice adesso Perché qui arriva Quella che io considero La parte più inquietante Di questa storia Ascoltate bene Che cosa dice Quest'uomo Matteo Messina Denaro Era lì A quella festa Quando l'ho visto Lui era seduto Con uno che lavora A Un appartenente Alle forze dell'ordine E uno che fa il medico Io sono consapevole Che questa Che mi è capitata È una situazione Più grande di me Finché non ho visto I giornali Però Non avevo collegato Poi Quando ho visto Il suo viso L'ho riconosciuto Lui era lì Il viso di adesso Era lui là Quello che ho incontrato Alla festa Si vedeva che era malato Sofferente Ciao Sono Andrea E aveva ferite Postoperatorie Mi ha detto Che aveva una ferita Fresca fresca Ma Aveva lo stesso occhiale scuro E si vedeva Un occhio difettoso Sotto l'occhiale Era in camicia E pantaloni Sembrava una persona per bene Io ho notato Un orologio importante Aveva Scarpa stile Hogan però Dell'Hermes Parlava con uno Che io conosco Che lavora Nelle forze dell'ordine Se sei una persona Per esempio Come quella Andrea Buonafede Non puoi stare seduto Allo stesso tavolo Con qualcuno Che dovrebbe fare Rispetto della legge Sentivo cosa dicevano Cosa del tipo Allora Com'è andata La settimana scorsa Quell'udienza Parlavano di cose di lavoro Poi Comunque sia Abbiamo parlato E mi ha fatto capire Che lì Non ci siamo mai visti Non ci siamo mai incontrati Tu ti fai i fatti tuoi E io mi faccio i fatti miei E viviamo tutti felici E contenti Ad uno di questi venti C'era anche un autopolitico E da Quella sera Messia a denaro Non c'era Però Si faceva comunque Uso di droghe leggere E pesanti Allora Qui si fa il nome Di un politico importante Tu lo sai Perché lui Te l'ha detto Ho visto che Quando il mio collega Ti ha fatto la domanda Per le iene Tu Hai Ovviamente Pergi versato Ma hai fatto capire Che comunque È un uomo di siciliano Ma Nazionale Caratura nazionale No Non è solo limitato All'ambito regionale Sì Un politico di caratura nazionale Un politico che ovviamente Io ho fatto il nome I inquirenti L'onestà intellettuale Di questa persona Che mi ha ribadito Io non sono sicuro Se in questi festini In uno dei tanti festini Perché lei ha partecipato A più Questo personaggio Ha partecipato a più festini Io non sono sicuro Se c'era Il politico In questione Quella sera In cui c'era Messina a denaro Questo vuol dire Per chi ci ascolta Che se uno Può avere sospetto Il dubbio Che si infili Un nome di un politico Per legarlo A Matteo Messina a denaro Questa persona Ripeto Un testimone X o Y Non dice Quella sera C'era Mattio Messina a denaro E c'era anche Questo politico importante No Dice che lui Non se lo ricorda Se c'era Può darsi Che ci fosse Ma certamente C'era in una di quelle feste Io ho fatto una domanda Ho detto Ma quando c'era questo politico Si faceva uso di cocaina Come se nulla fosse C'è La dimensione di quella festa Era sempre uguale Assolutamente sì Questi festini Avevano Le stesse identiche Come dire Comportamenti Diciamo Ovviamente Ovviamente un politico Cosa ci sta a fare lì Non si capisce Esattamente Però dice anche una cosa A mezzanotte Le cameriere andavano via Quindi vuol dire Che era un posto Conosciuto Insomma E a un certo punto Dopo la mezzanotte Arrivano delle escort Delle ragazze con cui Racconta qualcosa di più Non racconta qualcosa di più lui Non racconta qualcosa in più Si ferma Si ferma lì Chiaramente diciamo Io non posso dirti il nome del politico Perché non è questo il contesto giusto Però sono sicuro del fatto che Il racconto che mi ha fatto questa persona È pieno di dettagli Io ho fatto anche qualche indagine Qualche riscontro Oggettivo sui luoghi In cui questi festini Potevano in qualche modo svolgersi E ho trovato tanti 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 riscontri Pratici E avrei fatto anche Delle indagini Su chi è questa persona Perché anche a me Arrivano molte persone Durante la settimana Che mi dicono Guarda Massimo Giletti Io ho trovato So questo So questo Però tu le verifichi Che le devi fare Esatto E quindi nel tuo Conoscendoti Avrai capito questa persona Da dove esce Se ha un grado Di un perché Poi le polpette avvelenate Lo diciamo subito Cioè non è Isla Nele Viene qua e dice La verità Esatto È andato Dal carabiniero È andato Ora Noi abbiamo fiducia Nella procura Assolutamente Dobbiamo averla E sarà la procura Vagliare l'attendibilità Di questa persona Però credo che L'opinione pubblica È importante Che sappia È importante Diciamo Alzare un po' Anche il livello Del dibattito Attorno a questa storia Cioè perché Qui si parla Del profumo Di Matteo De Sina Si parla Se lui usava Il viagra Non il viagra Abbiamo parlato Di tante cose Il peluche Che sta appeso lì Cioè Qui c'è la borghesia Bene Potente Che fa gli appalti Che vince gli appalti Che determina Elezioni di uomini O non uomini E che copre Matteo Messina Denaro Storicamente L'ha sempre coperto La gente si chiede Come ha potuto Lattitare per 30 anni No? Ecco Probabilmente Si aveva Questi tipi di rapporti Presto detto La spiegazione Le coperture Erano altissimi Erano altissime Facciamo vedere Un pezzo Che ha fatto Danilo Lupo Che veramente Non mi stanco Poi anche Di ringraziare Chi come Danilo Si sposta All'improvviso Una parte All'altra E permette Anche Poi di Eccolo qua Questa sera E qua con me Però ci permette Poi di avere Degli elementi Che ci aiutano A riflettere Il territorio Di Trapani Perché Matteo Messina Rennaro È cresciuto In quel mondo Nel mondo Trapanese Lì ha avuto Tutte le protezioni Abbiamo anche Parlato La scorsa settimana Con la Moglia Dell'ex prefetto Sodano Che ha stato Ripetiamo Trasferito Perché aveva capito Come stavano andando Le cose Aveva capito Dove si doveva Lavorare Per tranciare Questa rete Di protezione Intorno a Matteo Messina Denaro E lo stato Purtroppo Fatto di uomini A volte fedeli A volte infedeli Quell'altro stato Quello che noi Combattiamo Noi crediamo Nello stato Con la S maiuscola Ma c'è un altro stato C'è un'altra parte Di questo stato Che lavora Per non arrivare Alla verità Lo fecero trasferire Ma la signora Con coraggio Fece il nome Intorno a Trapani Massoneria E borghesia Di un certo tipo Hanno aiutato E protetto Da sempre Matteo Messina Denaro Danilo Lupo Non sapete Non c'è mai nessuno Qui? A volte Di sera C'è qualche riunione Così Però Le riunioni Le riunioni massoniche Dicono Le riunioni massoniche Non lo so Sinceramente Non lo so Che sembra una chiesa Che sembra una chiesa Ma chiesa non è Chiesa non è No Castelvetrano Paese natale Di Matteo Messina Denaro 30.000 abitanti 6 logge massoniche Sulle 19 totali Della provincia Di Trapani Una concentrazione Eccezionale Massone Ad esempio Era Alfonso Tumbarello Medico Sia di Matteo Messina Denaro Che del suo alias Andrea Bonafede C'è quel dottor Tumbarello No Non sono io Sono la figlia Sto cercando suo padre Per capire un po' Qual è la situazione Mi dò Guardi Non siamo interessati A rilasciare interviste La ringrazio Buona serata Volevo capire almeno Su questa straordinaria Densità massonica Ha puntato i fari La commissione nazionale Antimafia Questi territori Presentino Ancor più Che altri Una commissione Fra i cosiddetti Notabili E appunto Le organizzazioni mafiose Lo scorso anno La commissione Va a Trapani Convoca le obbedienze Massoniche E lì succede Un episodio Singolare Mentre facevate Questa audizione Lei trova qualcuno Dietro la porta? Di fatto C'era qualcuno Appoggiato alla porta Aveva sul palmo Della mano In orizzontale Il telefono E io ricordo Di aver visto Chiaramente Il display Acceso Il religioso silenzio Come sempre Soltenti ad ascoltare Perfettamente Quanto si stava dicendo All'interno Dell'aula Si trattava Del dottor Salvatore Monteleone Cioè L'attuale maestro Della loggia Francisco Ferrer Di Castelvetrano Medico Se non ricordo male Esattamente Per tutte quelle Quelle fesserie Lei non origliava Diciamo Alla porta Assolutamente Io sono in un faccio Il medico In questo momento Stavo soltanto Scrivendo Un post-up E rispondendo I pazienti Perché quella mattina Dove ho scarrato E il maestro Venerabile Giusto della loggia Ferrer Sono io Sì Quella qui era iscritto Un po' di tempo fa Vaccarino L'ex sindaco Che era anche Diciamo Che per conto dei servizi Scriveva Matteo Messina Denaro Questo non lo so Perché io L'ha dichiarato Vaccarino Ma chi Stavano udendo In quel momento I commissari antimafia Il vecchio gran maestro Perché la sostituzione Era avvenuta Da poco tempo Quintino Paola Il cui numero Adesso è stato ritrovato In tasca A Giovanni Luppino Cioè all'autista Che portava Matteo Messina Denaro Nella clinica di Palermo Dove è stato arrestato E secondo me Ci sono tante coincidenze Che le autorità giudiziarie Dovranno sceltamente Approfondire La scorsa settimana Gaspare Mutolo L'uomo più vicino A Totorina Ha fatto l'autista Ma ha ammazzato Circa 70 persone Su ordine di Totorina Ha detto una cosa Che fa venire i brividi Ascoltando il pezzo di Danilo Cioè dice La massoneria È più potente della mafia Perché la massoneria Ha nei vertici apicali Del sistema Quelli che comandano Sì Diciamo che Un altro elemento Che mi è saltato Subito all'occhio Massimo È che All'interno Di quel contesto lì Poteva esserci anche Un soggetto Appartenente Alla massoneria Ed è questo Uno dei dettagli Che mi ha Veramente Diciamo Fatto capire Che il racconto Di questa persona Poteva essere verosimile Quando parliamo di massoneria Spesso in Sicilia Si è fatto Un racconto Della politica Che dice che Ovviamente La mafia fa schifo Ma a volte Certi politici Cercono i voti dei mafiosi È facile dire che la mafia fa schifo E poi cerchi i voti dei mafiosi Spesso quello che si dice E poi non è mai Quello che si fa In realtà Allora c'è un personaggio A proposito di massoneria Si chiama L'osciuto Giovanni L'osciuto Cinque anni Credo sia stato Consigliere regionale Un personaggio Molto chiacchierato In questo momento È sotto processo Siamo andati Ad ascoltare Raccontiamo questa storia Sempre Danilo Lupo Perché è un personaggio Molto intrigante Da un certo punto di vista Messina Denaro Mamma Papà Il fratello di mia madre Mio zio Giovanni Giovanni E questo chi è? Giovanni L'osciuto Politico Di Castelvetrano Quando Sandro Ruotolo Per fanpage Girò questa intervista Giovanni L'osciuto Non era ancora stato arrestato Il politico di Castelvetrano È sotto processo Ormai da due anni Con l'accusa Di aver creato Una loggia segreta Con dentro Politici E notabili Anorevole L'osciuto Salve Buonasera Buonasera Salve Norevole Stiamo cercando di capire Il legame Fra la massoneria E Matteo Messina Denaro Ma non sono massoneria Quindi È sotto processo Per la creazione Di questa loggia coperta Non ho credo niente Ma gestate Si sono inventato una bulla Non esiste massoneria Non esiste la massoneria Non esiste Non sono stato mai un massore Senta E invece Sul suo rapporto Con Matteo Messina Denaro Lei è stato amico di infanzia Lei è ascolto Io è un giornalista serio Se lei quando è giovane Amico di infanzia È una persona Che potrebbe andare in mente Aveva una colpa No È vero che però È vero che lei Fino intercettato Non più di due anni fa Diceva Ci volevamo bene Ci vogliamo bene assai Io ho detto Io ho detto Quando eravamo ragazzi Eravamo amici Ci volevamo bene Poi ognuno ha fatto La sua strada Avevo 16 anni Quindi 44 anni fa Non aveva 17 forse Sì Ho 17 anni Non lo so O 18 Non lo so Non lo so Era un ragazzo Normale come lei Come tutti gli altri E poi Beh era già figlio di Don Ciccio Messina Denaro Sì Ma Don Ciccio Messina Denaro Allora Mi si è messo Come un mese colto io Era a piede libero Non era Non era la titante Era a piede libero Era una persona normale Poi io Guardi In quel periodo Mi occupavo Pensavo a giocare A scherzare Andare a ballare Secondo me Facevo gli imperenti Sapevo chi era quello Che era quello Che tipo era Matteo Non se lo ricorda No Era un ragazzo normale Anzi Tipo di introverso Sì Quando lo conoscevo io Con cui si voleva bene Questo lo dice lei al telefono Non è che lo dico io Quando eravamo Ragazzi sì E che cos'è No Non lo so E sto dicendo Mi viene a decidere Perché lei fa domande Cioè Perché è ripentata Sempre a questo Sospetto Quell'altro Beh lei è sotto processo Non è che è un sospetto Ma è che sono un processo Per questo motivo No assolutamente Lei è sotto processo Per aver creato Affermano i magistrati Non ho creato niente E sto dicendo Che è una burla Inventata dai magistrati Una burla L'Italia Si interroga Come mai ci ha messo Ci ha messo Trent'anni E quanto le coperture Della mazzoneria Possano aver influito O meno Deve chiedere Le magistrate Le forze dell'Urdo Che aveva Trent'anni E lo cercano A me Che non me ne sono mai occupato Perché non mi interessa Volevo approfittare Così all'improvviso Visto che c'è Danilo Lupo qui Che sensazioni ti fanno Questi personaggi Io ripeto Dice che non ha mai appartenuto Alla massoneria Io l'altra volta Ho incontrato Santo Sacco Che è stato molto Santo Sacco Molto educato Indicato come ministro Di Matteo Messina Denaro Molto cortesi Rispondono Anche Lo sciuto Ti ha risposto Che sensazioni hai Ha risposto Naturalmente Non era felicissimo Ovviamente Dell'intervista Ma è anche ovvio Perché era Sotto processo E quindi sarà il processo Lo sciuto è Innocente Fino a sentenza definitiva Certo La cosa che colpisce È pensare Che Un amico di infanzia Una persona Che sicuramente Non pensa male Di Matteo Messina Denaro Fosse all'interno Della commissione Regionale Antimafia Della regione siciliana Che ha Grandi poteri Anche superiori Diciamo A quelli di un Normale Regione Che non è a statuto speciale Quindi La cosa che colpisce È L'opportunità Forse innanzitutto Cioè Bisogna anche essere Attenti E che ci siamo posti Anche Con Ismaele Anche C'è stato un caso Cioè l'opportunità Perché voi avete Poteri importanti Potete ascoltare Interrogare le persone Potete acquisire Documenti riservati È così Diciamo che A differenza Della commissione nazionale I poteri sono minori Onestamente Dal punto di vista Diciamo pratico Però Nel caso di specie Io l'acquisizione Che ho appreso È importante anche dirlo Non l'ha presa In sede di commissione No Ma questo L'abbiamo chiarito Ovviamente Esatto Perché in quel caso Avrei dovuto Mantenere il riservo No La storia viene All'esterno Della commissione Antimafia È onestamente La questione Diceva L'opportunità È centrale L'opportunità È una delle cose Più importanti Cui spesso La politica Ripetiamo Sono i processi A stabilire le cose Ma l'opportunità È molto importante In chiave politica Perché anche le persone Che ci stanno seguendo A casa Qualche dubbio Iniziano a porsolo Perché è una persona Sulla quale Ci sono un po' Di punti interrogativi Deve essere messa In un posto delicato Mettetela Da un'altra parte Eppure stranamente Vanno sempre In quei posti Così Scopriremo Presto La verità Sul testimone Che ha parlato Con Ismaele Ci fermiamo Per un istante E poi torniamo Allora Ismaele Questa persona Quest'uomo Questa donna Questo testimone X Che ha parlato con te Ha raccontato Dei festini A cui partecipava Matteo Messina Denaro Insieme Alla gente bene Di Palermo E addirittura Un poliziotto Un uomo Dei forze dell'ordine E un politico Forse Rischia Perché aveva paura Nel parlarti Sa che è complicata Adesso la sua storia Secondo me Ha avuto molto coraggio Anche perché Il passaggio successivo A parlare con me È che ha poi Confermato tutto quanto Con i rossi Quindi non si è fermato Soltanto il racconto Io ho cercato Di convincere questa persona Sull'opportunità Di denunciare ufficialmente Pubblicamente E avere fiducia nello Stato Perché noi dobbiamo avere fiducia Perché la Procura Sta indagando Io ho fiducia Del fatto che Questa storia In qualche modo Verrà tirata fuori Grazie a Ismaele La Vardera Grazie per essere stato con noi Ad Maiora Buonanotte a tutti Non è facile Pensare di andare via E portarsi dietro